Sveglia Trieste Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico dalle 8 alle ore 9, dalle 9 alle 10 in compagnia di Roberto Giurastante, presidente del Movimento Trieste Libera. Leggiamo assieme la pagina Meteo. Sulla regione affluiscono in quota correnti secche settentrionali. Oggi saranno occidentali con area un po' più umida e meno fredda. In quota mercoledì potrebbe giungere un fronte. Per oggi cielo in genere variabile sulle zone sudorientali della regione. Anche nuvoloso per nubi basse con qualche possibile piovigine, possibili nebbie di notte al mattino. Temperature minime tra i 5 e i 7 gradi, le massime 10-13 gradi centigradi. Per domani al mattino cielo sereno o poco nuvoloso in giornata variabile. A Trieste e Gorizia anche cielo coperto dal pomeriggio con possibili piovigini. Di notte al mattino possibili foschie o nebbie. Di notte in montagna inversione termica con temperature sempre positive in quota. E gelate a fondo valle. 5-7 gradi le minime previste per domani. 10-12 gradi invece le massime. Il Corriere della Sera quest'oggi titola tensioni sul fondo salva stati. La partita europea, alleati divisi sul MES, fitto media. E oggi riparte il confronto sulla manovra. La Lega non arriverà in aula. Forza Italia per il sì. Le opposizioni pagliacciate dicono dal fronte della minoranza. Un altro motivo di tensione nella maggioranza. La ratifica del MES e oggi si riapre la partita della manovra. Fanno solo propaganda ma qui è in gioco l'Italia. Dice Elislein nell'intervista a pagina 5. Difendo Concia e anche i diritti invece parla la russa a pagina 9. Scoprirsi adesso pacifisti, scrive Paolo Mieli. Sinistra è Ucraina, l'articolo di fondo del Corriere con la firma di Mieli. Poi la presidenza argentina, Milei. Non ci sono soldi inevitabili, uno shock, parla così al popolo argentino. La riflessione, il paradosso, 41 bis, normalità abnorme. A pagina 32 l'approfondimento di Goffredo Buccini. La fotonotizia, una sedia vuota per la Nobel, la figlia Iran contro le donne. A Oslo il premio per la pace a Nargis Mohamadi detenuta dal regime. Ecco perché la sedia vuota, lasciata proprio per simboleggiare il profilo del premio Nobel per la pace. Allarme a Gaza, ridotti alla fame, dura telefonata Netanyahu Putin, l'ONU e la diplomazia. Nella lunga telefonata con Putin, Netanyahu ieri ha criticato la pericolosa cooperazione tra Russia e Iran. Poi l'ultimatum a Damassa, rendetevi, non morirete per sin war. Mentre a Gaza, ridotta allo stremo, la situazione è disperata. L'allarme è lanciato anche dall'ONU, soprattutto dall'ONU. Un rogo in ospedale, uccisi dal blackout, impianti le accuse. Il procuratore di Tivoli dice, escluso il dolo. I tre pazienti che l'altra nota hanno perso la vita durante il rogo dell'ospedale di Tivoli potrebbero essere morti non per il fumo, ma per il blackout che ha tolto corrente ai macchinari cui erano attaccati. I parenti dicono, ora ci dicano la verità. Minori, nei tribunali 110 mila arretrati, sofferenza sociale e psichica dei più giovani causano danni irreparabili, ma chi deve occuparsi nei tribunali per i minorenni non funzionano. In Italia sono 29 e hanno circa 110 mila pendenze arretrate, mancano giudici e personale amministrativo. L'approfondimento di Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Un'idea di futuro, invece, scrive Alessandro D'Avenia nella rubrica Ultimo Banco. Andiamo a leggere il piccolo di quest'oggi. Gli introvabili del lavoro, lo sviluppo a ostacoli più in più del 50% dei casi candidati non ci sono. Nella nostra regione sfumano 59 mila assunzioni. E' l'articolo che apre l'edizione odierna del piccolo. Svolta necessaria su stipendi e produttività. E' il commento che dopo troveremo a pagina 2. La ricetta per un'azienda attrattiva, invece. Lo spunto di Diego D'Amelio a pagina 3 del piccolo. La battaglia legale in Europa sul maxi yacht dell'oligarca russo Melnichenko, qui ripreso in foto. Accanto invece l'annuncio di papà Gino, una fondazione per Giulia Cecchettin. La foto di Giorgia Meloni col titolo MES. Il governo prende tempo, muro della Lega sulla ratifica, i fondi di Bruxelles. La palla starà anche al Parlamento, come continua a dire Giancarlo Giorgetti. Ma i parlamentari a questo punto vogliono sentire una parola chiara da Giorgia Meloni. Almeno quelli della Lega, alle prese con sicuri malumori interni, se si dovesse alla fine procedere con la ratifica del MES. Ci si sposta in Friuli, Venezia e Giulia. Di piazza resta il più ricco. In consiglio svetta Pasino i redditi in comune. Ho il privilegio di essere da quasi 30 anni socio di uno studio che gode di una solida reputazione internazionale. Alberto Pasino lo sintetizza così. Mi supprimato dai redditi del consiglio comunale. Il consigliere Punto Franco dichiara un imponibile di 150 mila euro, che lo riconferma tra i più danarosi di Palazzo Cheba. Umi Maier, Minor Cessati, in vero il titolo di più ricco da 20 anni e di Roberto Di Piazza. Anche nel 2023 il sindaco blinda il primo posto con 328 mila euro dichiarati. Trieste, settimo sigillo con Nardò. Grazie anche ai panchinari, la fotonotizia che riprende la vittoria della pallacanestro Trieste, che allunga la striscia vincente e supera anche l'ostacolo Nardò. Un successo sicuramente meno scintillante, ma alla fine si tratta del quarto exploit consecutivo. Altre notizie, intelligenza artificiale, che cosa cambia? Scrive Massimiliano Cannata, pagina 13. Primo step per ampliare il centro studi della foiba di Basovizza, lo vedremo a pagina 19. Bici a mano nelle piazze, la FIAB norma inutile, c'è già il codice. Il commento della FIAB ulisse riguardo le norme di traino di bici a mano nelle piazze. Un tocco ticinese sulle rive, un libro sull'architetto De Gasperi. Nella prima metà del secolo XVIII, Carlo VI e Maria Teresa dichiararono e confermarono Portofranco e raccorsero da ogni paese commercianti e operai, così scrive il ticinese Giovanni Righetti nel volume pubblicato nel 1865, cenni storici, biografici e critici degli artisti ed ingegneri di Trieste, ovvero del progresso fatto nelle arti edilizie e mestieri della metà del secolo XVIII fino ad oggi, nello spazio della cultura, dalle pagine 22 in poi. Come abbiamo visto dalla prima pagina, si apre con il lavoro, l'edizione del piccolo, capitale umano strategico, ma nel 53% dei casi i candidati non ci sono. Per Union Camere e Celsiori, regione sfumano 59 mila assunzioni, introvabili la sfida del lavoro. I profili cercati dalle imprese, assunzioni complessive previste nel 2023, la previsione era di 113 mila 700, ci sono in Friuli, Venezia e Giulia, aumenta di molto il valore invece in Veneto, di poco il Trentino Aldo Adige, di molto nella media del nord-est in Italia, di 5 milioni e 509 mila unità lavorative di persone per occupare posti di lavoro nuovi. Il totale delle assunzioni previste è dicembre 23, febbraio 24, Friuli, Venezia e Giulia 25 mila 470, in Veneto 120 mila 360, un divario netto nell'indirizzo economico, il livello universitario sono più o meno 800 persone, il 3,14 sul totale, l'istruzione tecnica superiore 270, in questo caso nuove tecnologie per il Made in Italy e la meccanica, a livello secondario indirizzo amministrazione, finanze e marketing 2430, per l'indirizzo meccanica, meccanotroniche ed energia sono 1510, la qualifica di formazione professionale in indirizzo meccanico e la ristorazione che valgono il 5,93, l'8,17%, questi lì introvabili del lavoro, produttività e salari, la svolta necessaria, scrive Luca Piana, andando a guardare proprio alla retribuzione e anche alla produttività in termini anche di bonus e di incentivi allo sviluppo lavorativo, formazione, flessibilità e possibilità di crescita, così vogliamo essere attrattivi, Carlo Poloni è Presidente di Esteko Italia, società con base a Trieste, controllate tra Stati Uniti e India, attiva nel campo del software con la progettazione industriale, in questo caso Diego D'Amelio racconta, grazie a ciò che Carlo Poloni ha a sua volta riferito, il nostro metodo è individuare le persone ancora prima della laurea, il rapporto consolidato con l'università. A caccia di lavoro, qui una coppia a colloquio in un centro per l'impiego, destro, dobbiamo aumentare il numero di studenti che frequentano gli istituti tecnici, gli ITS fondamentalmente benedetti, da tempo reclutiamo all'estero e facciamo formazione ad hoc. La scheda, i percorsi di studio, gli indirizzi e che cosa cercano le imprese, da dicembre 2023 a febbraio 2024 le imprese, De Friuli, Venezia e Giulia avranno bisogno di 25.470 persone, a livello di percorso di studi nel contesto universitario i profili più ricercati appartengono all'indirizzo economico, 800 persone, il 3,14%, mentre settori di amministrazione, finanza e marketing, insieme a meccanica, meccatronica ed energia, dominano le preferenze nel livello secondario, con percentuali rispettivamente del 9,54 e del 5,93%. Nello stesso periodo il Veneto ne assumerà 120.360, a livello universitario l'indirizzo economico resta più richiesto, 4.760 entrate, 3,66%, nell'istruzione secondaria le preferenze oscillano tra amministrazione, finanza e marketing, 9,19%, e meccanica, poi meccatronica ed energia, nell'istruzione professionale domina l'indirizzo meccanico, 7,92% del totale degli ingressi in questi profili maggiormente richiesti e anche il livello di studi. La politica inodi, il meccanismo europeo di stabilità, il governo prende tempo, nuove tensioni in maggioranza, muro della Lega sulla ratifica, Molinari afferma il 14, non la discuteremo alla Camera, ma Forza Italia insiste sull'approvazione, Fitto dice, prima aspettiamo il Consiglio dell'Unione Europea, la Premier Meloni, capo dello Stato Mattarella e Presidente del Senato la russa, in questa foto, tutti e tre assieme, in aula, convocato per il 20, il tavolo sull'ex Ilva Pressing dei sindacati a Palazzo Chigi, il richiamo di Mattarella sui diritti umani, la loro tutela è un'esigenza irrinunciabile, poi la giornata mondiale, il capo dello Stato rimarca il valore della dichiarazione universale, anche il Papa lancia il monito, c'è ancora da lavorare, a volte si rischia di tornare indietro, le parole del Pontefice. Il concerto di Natale, l'ommaggio del Senato alla Lirica e al Manzoni, con mozione standing ovation per l'orchestra e il coro della Fondazione Arena di Verona e i solisti, ma soprattutto per Sergio Mattarella, accolto con un grazie Presidente già al suo arrivo a Palazzo Madama in Senato, celebra così il Natale con il tradizionale concerto che quest'anno porta a un omaggio la musica lirica, appena proclamata elemento del patrimonio immateriale dell'umanità, e ad Alessandro Manzoni, uno dei più importanti padri della lingua italiana, come ha ricordato il padrone di casa Ignazio Iarussa che ha cantato l'inno di Mameli con la Premier, Giorgia Meloni. Andiamo a leggere le notizie di cronaca, un ospedale su tre in Italia non è a norma di sicurezza, il problema riguarda sia le strutture piccole che quelle grandi migliore, il Presidente della Fiaso spiega, difficile rispettare le scadenze per via di costi alti e logistica. L'articolo poi fa l'analisi, i costi sono alti si riporta, soprattutto perché gli ospedali italiani sono datati, come indica l'analisi del CNR citata dalla INAIL, il 50% è stato costruito fra il 1900 e il 1980, il 22% prima del 1900, solo una piccola percentuale è stata quindi costruita negli ultimi 43 anni su un 72% di edifici con vincoli architettonici, strutturali e piantistici che ne condizionano il funzionamento e la disponibilità di spazi e servizi, come rileva la ricerca. Gli ospedali con l'età media più alta sono in Umbria, Lazio e Toscana e più recenti in Valle d'Aosta, Molise e Calabria. Adeguarsi alle regole di sicurezza che oltre agli incendi riguardano staticità e strutture antisismiche significa perciò affrontare interventi pesanti, sono strutture in cui viene erogata l'assistenza dove va pianificata una chiusura temporanea creando un'alternativa, dice il Presidente della Fiaso, oppure vanno scaglionati gli interventi lasciando aperta una parte della struttura ma allungando i tempi per la messa a norma. Pronti 200 milioni per il polo sanitario a Bagni di Tivoli, nuovo progetto nel Lazio, antincendio sotto accusa nell'indagine sul rogo vertici della ASL nel Mirino. La figlia di una vittima, mia madre, era intubata, fatale per lei, il blackout proprio a Tivoli di quanto è accaduto nei giorni scorsi. Andiamo al capitolo legato alla morte di Giulia Cecchettini, il mio impegno continua, ci sarà una fondazione nel nome di mia figlia. Gino Cecchettini, papà di Giulia, ieri ospite da Fabio Fazio, a che tempo che fa? Il problema del patriarcato è serio e va affrontato in maniera drastica. Mi ritrovo senza una moglie e una figlia ma con la possibilità di gridare che qualcosa che bisogna fare è qualcosa, ha detto Gino. La rabbia sono riuscito ad azzerarla perché volevo essere come mia figlia, ha riferito alla puntata in compagnia di Fazio. Gli accertamenti sull'auto, snodo per la premeditazione, la punto usata per la fuga attesa in Italia entro la fine della settimana, qui un fotogramma dell'auto in cui Toretta è fuggito in Germania dopo aver ucciso l'ex fidanzata. L'iniziativa di Saonara, la poesia di Gibran, apre la serie delle frasi di ricordo in tutto quel corollario di messaggi che sono stati riportati in memoria di Giulia. Il caso Atreviso, instigazione all'odio razziale inchiesta sul posto della docente dopo il licenziamento e l'indagine, innescata anche dall'esposto dell'Unione delle Comunità ebraiche. Dopo le polemiche leggiamo la sospensione e il licenziamento della scuola internazionale H-Farm di Roncade. Non finiscono i guai per la professoressa di matematica libanese Hanan Hamoud che un mese fa, mentre infuriavano i raid israeliani a Gaza, pubblicò nelle stories del suo profilo Instagram un video sul conflitto israelo-palestinese accompagnato dalla frase «Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi, ebrei». Ora, sulla vicenda, è stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La procura titolare del caso è quella di Venezia, essendo un reato di competenza della magistratura distrattuale, in quanto commesso attraverso un mezzo informatico. Un reato, quello punibile dall'articolo 604 bis del codice penale procedibile d'ufficio, anche se, stando a quanto sia preso sul caso, è stato presentato anche un esposto dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane di Roma, l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei confronti dello Stato italiano. Già nei giorni scorsi l'insegnante è stata interrogata. Nella stessa pagina leggiamo il delitto alla Spezia, Rossella e quel tentato doppio suicidio nell'edicola. Il racconto della storia è piuttosto sensibile e delicata di questa vicenda. Hamas vuole una trattativa sugli ostaggi. Netanyahu replica ora arrendetevi guerra in Medio Oriente alla minaccia degli jihadisti riguardo i loro prigionieri. Israele risponde mantenendo la pressione militare e chiedendo la resa. Hamas ha avvertito Israele che nessun ostaggio sarà rilasciato senza negoziati mirati, mentre Preven Netanyahu ha lanciato un ultimatum ai miliziani ad arrendersi piuttosto che morire per Simwar. Il capo della fazione a Gaza, al 65esimo giorno di guerra, inoltre l'ONU e le sue organizzazioni sono tornate ad attaccare Israele per la situazione umanitaria nella striscia, ormai prossima alla catastrofe, dove metà della popolazione, secondo il vice direttore del programma alimentare mondiale, muore di fame. Stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario, la situazione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi, ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, criticando anche lo stallo del Consiglio di Sicurezza dopo il veto posto dagli americani alla risoluzione che chiedeva un cessato il fuoco immediato. Una tregua vitale, anche secondo l'opinione del capo della UNRWA Filippo Lazzarini, che ha parlato di inferno sulla terra per descriverlo lo scenario di Gaza. Nuovo monito dell'ONU, la situazione nella striscia sta diventando un vero inferno. La Russia, il monito di Lavrov al mondo, finiti 500 anni di Occidente, Putin sottolinea da parte sua che nell'operazione militare in Ucraina si sta giocando il futuro della Russia e non solo quello. Il dominio dell'Occidente sta finendo dopo 500 anni, al suo posto sta emergendo un mondo multipolare. Una minaccia o forse una speranza, quella che il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è tornato a ribadire al forum di Doha, dove è intervenuto da remoto e ha parlato della situazione internazionale, anche della guerra in Ucraina. Dalle attività delle truppe russe in prima linea dipende il futuro dell'intero paese, ha ricordato il Presidente Putin, dopo la cerimonia di consegna delle medaglie con la stella d'oro agli eroi della federazione. L'Occidente ha cercato di indebolire e schiacciare la Russia, ma questo non accadrà mai, è avvertito. Il conflitto in realtà è in una fase di stallo, ma lo zar vuole ottenere almeno un successo sul campo per poter vantare agli occhi dei suoi elettori i risultati ottenuti. Secondo il think tank statunitense Institute for the Study of War, infatti, Putin ha dato l'ordine di prendere Advikia prima delle elezioni di marzo. La città del Donetsk, diventata simbolo della resistenza ucraina nei primi mesi dell'invasione, è sotto assedio da metà ottobre e continua a esserlo ancora oggi, nonostante le condizioni meteo pessime dovute all'arrivo dell'inverno. Le truppe russe attaccano 24 ore su 24, in media lanciano 30-40 bombardamenti massicci al giorno, cercando di conquistarla in tutti i modi, ha riferito il capo militare della città, Vitaly Baravash. Cannoni, razzi, artiglieria e attacchi con i carri armati accompagnano l'assedio, ma non evitano le perdite tra i soldati del Cremlino, che stando a quanto riferiscono gli ucraini, sono superiori del 25% rispetto a quelle registrate durante la battaglia per Bakhmut. Per l'Ucraina comunque il conflitto continua e a non essere facile. Per l'intelligence britannica il massiccio attacco messilistico lanciato giovedì dalla Russia ha segnato l'inizio di un'offensiva per indebolire le infrastrutture energetiche del paese, ma è soprattutto il fronte orientale a preoccupare, come ammette lo stesso comandante delle forze di terra di Kiev, ovvero Alexander Sirsky. La situazione operativa a est rimane difficile, ha sottolineato il capo militare proprio ucraino. Biden, Trump nel mirino, democrazia a rischio, Stati Uniti, le elezioni, Milley e il Presidente, ora la terapia shock in Argentina. Per Argentina non c'è alternativa all'aggiustamento e non c'è alternativa allo shock. L'ho detto il nuovo Presidente Javier Milley, nel suo primo discorso come capo dello Stato, il leader ultraliberista, ha avvertito la cittadinanza che non ci sono soldi e che il programma di riforme e stabilizzazione economica avrà un impatto sul livello di attività, di inflazione e di povertà. Chiudiamo la pagina con una sedia vuota per la Nobel, l'iraniana Mohamedi è in carcere, l'abbiamo visto anche dal Corriere della Sera. Andiamo a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale, il Commissario Degrassi in linea con noi per descriverci la mattinata che si presenta oggi, la giornata, anzi meglio dire, buongiorno. Buongiorno Degrassi. Non sentiamo. Non sentiamo nulla. Allora, vediamo di capire qual è il problema, in questo caso forse collegamento audio per andare in contatto, entrare in contatto con la sala operativa della Polizia Locale, nel frattempo proseguiamo con il piccolo. Nuovo termine al passeggeri a fiume, l'autorità portuale lancia il progetto, il direttore Vucorepa al lavoro, poi la soluzione ideale, prossimo passo la richiesta di modifica al piano regolatore, l'operazione di scarica abusiva bonifica a Dignano con la necessaria operazione che deve partire prima possibile, poi l'ex cantiere Scoglio Livi, il sesto tentativo in vendita, le prospettive descritte all'interno della stessa pagina. La Croazia acquista da Washington carri armati e nuovi elicotteri, decine i tank che saranno ammodernati, otto i Black Hawk, in ballo oltre 400 milioni di dollari, però o vediamo il giornale o ascoltiamo il collegamento, uno dei due, ecco, ok, perfetto. L'operazione dopo l'acquisizione di una squadriglia di caccia fa El da Parigi. Andiamo oltre la pubblicità per vedere la battaglia legale sul super yacht dell'oligarca, caso pilota in Europa la Corte di Giustizia deve stabilire se lo scafo sia riconducibile o meno a Melnichenko, in ballo anche i costi sostenuti dallo Stato. Il taglio alto si legge, il miliardario bielorusso nella top 100 dei più ricchi al mondo, Melnichenko, con un patrimonio di 25 miliardi e 63esimo uomo più ricco del mondo, è stato inserito dall'Unione Europea nella blacklist dei soggetti vicini a Putin, i noti oligarchi colpiti attraverso sanzioni che incidono sulla gestione dei loro beni, secondo lo Stato italiano, agli interessi del Melnichenko è riconducibile alla proprietà del sailing yacht A. Il diretto interessato invece nega ed è lo yacht che staziona ormai da tempo nel Golfo di Trieste. Andiamo adesso con il commissario De Grassi invece alle situazioni viabilistiche, le segnalazioni della giornata. Buongiorno commissario. Di nuovo buongiorno, mi sentite? Sì, ora la sentiamo forte e chiaro. Buongiorno, ben trovato. Bene, buongiorno, Guglietta e lei e tutti i telespettatori. Cominciamo con il dire che la notte per quanto ci riguarda è trascorsa tranquillamente solamente interventi di routine da parte delle nostre pattuglie e seragli. Al momento stiamo iniziando, non abbiamo particolari interventi in attesa o in atto. Devo segnalare in via di 20 settembre i lavori da Piazza Volontari in discesa, non sappiamo per quanto, come lunghezza, ma comunque attenzione, il via di 20 settembre è chiuso da Piazza Volontari Giuliani in discesa per lavori della Cegas. Ci è stato segnalato anche un lavoro sempre a Cegas, Fognature, in via Brigata Casale. Anche qui non abbiamo esattamente il civico, comunque alle 9.30 circa dovremmo andare anche noi a prestare assistenza. Dovrebbe essere comunque, mi dicono, all'inizio salendo da via Flavia subito la prima parte di via Brigata Casale, perciò attenzione. E ancora dovrebbero oggi iniziare dei lavori di taglio alberi in via Carbonara, perciò ci sono dei divieti di sosta in zona, attenzione, eventualmente, ripeto, in via Carbonara. In azienda non abbiamo niente di particolare, da quanto posso vedere dalle telecamere nostre, delle rete comunali, non abbiamo particolari situazioni di disagio, il traffico è scorrerevole e anche abbastanza moderato. Tra il momento vi restituirei la linea. Grazie al Commissario Degrassi, buona giornata, buon lavoro. Imparimenti anche a voi tutti. Buona giornata ancora. Andiamo a leggere le notizie del piccolo, però in questo caso ci sono gli approfondimenti con i commenti di Massimiliano Cannata, intelligenza artificiale da svolta dell'Europa, e poi Franco Belci che scrive il premierato di Meloni, una cambiale in bianco. L'elezione popolare della persona sola al comando comporta uno scambio davvero oneroso, riporta Belci. Andiamo alla pagina di Trieste, i redditi dichiarati quest'anno dai consiglieri comunali, c'è questa graduatoria, di piazza resta il più ricco tra i consiglieri, il primatista di piazza resta è più ricco, poi tra i consiglieri, quindi Esule, la Giunta e il sindaco, il primatista è Pasino, il sindaco guadagna più dell'anno precedente superando i 320 mila Euro annui, l'avvocato di Punto Franco tocca i 150 mila, dietro a lui il Dem russo, prima tra le donne la Meloniana Matteoni seguita da Brandi di Forza Italia, qui per chi ha voglia ci sono tutte le statistiche, il nome, il partito, l'imponibile del 2022 e quello del 2023, ora è inutile andare a fare un elenco uno per uno, abbiamo visto semplicemente il primo, Alberto Pasino, poi Francesco Russo, Roberto Cason, Matteoni, Brandi, Formulari e via discorrendo, ci sono fra i dati riportati alcuni sono ancora in via di definizione e per questo ci sono delle caselle fondamentalmente vuote. Inizia domani in aula la maratona di bilancio, comincia domani in consiglio comunale, la maratona per il bilancio di previsioni, questi giorni sono previste tre sessioni, domani appunto con inizio alle 17, giovedì alle 18 e lunedì 18 alle ore 17, giovedì invece a partire dalle 18 è previsto davanti al municipio un presidio di vari comitati cittadini che si oppongono alle scelte del comune e della regione dalla cabinovia alla sanità, quindi un unico momento di protesta che accomuna diversi argomenti. Leggiamo ancora le notizie in breve, la protesta forza nuova chiede anche a Trieste le dimissioni del ministro Valditara, ha tradito gli elettori, gli italiani e le famiglie che vogliono proteggere i figli dalle ideologie. ABC, webinar su Zoom, l'intervento psicoeducativo con i comportamenti problematici, un approccio comunicativo ed emotivo, webinar di tutela e diritti di ABC su Zoom, mercoledì alle 18. Presidio invece ieri pomeriggio in Piazza Unità nella giornata dei diritti umani da parte del Comitato Dolci che denuncia la vergogna dei migranti al silos. Ancora all'interno della pagina del Consiglio Comunale, Tognoli eradoppi ai portafogli e il più povero ora è Babuder, la classifica degli assessori, il delegato alle politiche sociali dichiara 158 mila Euro. I redditi dichiarati quest'anno da sindaco e assessori con il sindaco in testa davanti a tutti, seguono Tognoli, Savino, Giorgio Rossi, Tonel, Bertoli, Stefano Avien, Elisa Lodi, De Gavardo, De Blasio e chiude Michele Babuder. Qui le foto proprio del consigliere Pasino, dell'assessore Tognoli e poi del sindaco di Piazza in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca. Casella vuota nella cornonna del 2023 abbinata ai consiglieri che non hanno ancora depositato la dichiarazione, la casella vuota nella colonna del 2022 abbinata ai consiglieri che non erano all'epoca consiglieri e dunque non dovevano depositare le dichiarazioni. Questa è la leggenda di come leggere i dati della pagina precedente con l'elenco di tutti i consiglieri, c'erano delle caselle vuote ed ecco perché erano state riportate così. Ci fermiamo qui per questa prima mezz'ora di rassegna stampa, tra poco dopo la pubblicità rientreremo per leggere le altre notizie del piccolo, vedremo anche alcuni servizi andati in onda nella nostra emittente, ci vediamo tra qualche minuto. Riprendiamo la rassegna stampa con il piccolo alla pagina del cronaca del Comune, bicicletta a mano nelle piazze, ordinanza inutile, c'è il codice, il dibattito sulla mobilità dopo la stretta lanciata dal sindaco. La FIAB dice che la legge ci obbliga già a procedere a piedi in caso di rischi per i pedoni. Barbo, capogruppo del Partito Democratico, puntare sui divieti è sbagliato. Alberto Polacco, capogruppo di Forza Italia, le restrizioni sono opportune. Un'ordinanza, leggiamo nell'articolo di Piero Tallandini, un'ordinanza come questa non serve, basterebbe far rispettare il codice della strada e intanto dare ai ciclisti delle alternative per muoversi in sicurezza, come si sta facendo con lo ciclabile sulle rive. Parte da qui la riflessione di Tiziana Ugo, presidentessa della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Il tema caldo e l'ordinanza chiesta dal sindaco di piazza, sulla cui stesura stanno già lavorando gli uffici comunali, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza per i pedoni, istituendo l'obbligo di condurre a mano la bicicletta nell'area tra piazza della borsa e piazza unità e piazza verdi. Tiziana Ugo ricorda l'articolo 182,4 del codice della strada che recita, i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. È esattamente la condizione che si verifica quando in aree come piazza della borsa o piazza unità l'affollamento di pedoni rende più pericoloso il transito delle bici e allora i ciclisti devono rispettare il codice e condurla a mano, serva. Ecco perché dico che un'ordinanza come quella su cui si sta lavorando appare non necessaria e vedremo comunque quale sarà il contenuto definitivo, piuttosto sarebbe opportuno vigilare sul rispetto del codice della strada e in questo senso saremo d'accordo se il Comune intendesse fare più controlli per risolvere a monte il problema del conflitto tra pedoni e ciclisti. L'unica soluzione è creare le condizioni perché chi circola in bici possa farlo in strada in maggior sicurezza, sottolinea la presidentessa della FIAB. L'acciclabile sulle rive costituisce in questo senso una risposta adeguata anche se già stiamo constatando i problemi costituiti da pedoni che ci camminano sopra sebbene sia riservata alle bici. Mentre come abbiamo più volte ribadito non va bene l'impostazione dell'acciclabile in viare d'annunzio sul marciapiede disegnandola in strada, se si seguono i dettami del codice proprio della strada si può garantire maggior sicurezza. Queste le parole della FIAB. A quota 597 le firme Nuovo via Opicina, la mobilitazione, il Comitato Nuovo via continua la propria battaglia contro la costruzione dell'infrastruttura, gli attivisti rendono noto l'esito della raccolta di firme organizzata a Opicina sulla petizione al Parlamento europeo, le sue ascrizioni hanno raggiunto quota 597. Nella medesima pagina rientra a casa in costiera e trova le viti del suo terreno completamente tagliate, la vittima dell'episodio è la 63enne triestina Livia Amodeo, gli arcisi l'intero vigneto e l'albero di chiui, sporta denuncia ai carabinieri. Qui le foto di alcune delle piante è che la 63enne Livia Amodeo ha trovato recisi all'interno della sua proprietà in costiera alla mattina del 4 dicembre scorso. Accanto si legge incidente con lo slettino, madre e figlio all'ospedale ad Auronzo di Cadore, incidente con lo slettino ieri per una 46enne triestina e suo figlio di 5 anni. L'episodio, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, si è verificato mentre i due stavano scendendo lungo la strada delle tre cime sopra Malga Rin Bianco nei pressi di Auronzo di Cadore. Continuiamo con la lettura del piccolo. Luce pubblica in città, svolta storica, maxi appalto da era luce a Edison, i servizi di illuminazione per la prima volta, non vengono giudicate da una società che ha rapporti con il municipio. Project financing dal 2024 al 2037, concessione da 69 milioni e investimenti per ulteriori 25. Andrea Proudan, dirigente del project financing comunale, ha firmato la determina con la quale aggiudica a Edison Next Government, subentrata alla francese Citelum, la concessione dell'illuminazione pubblica della rete semaforica, dell'assistenza alla viabilità delle luminarie e degli adobbi latarizzi. Una concessione che correrà dal 2024 fino al 2037 per un anno montare di canoni a carico del comune pari a 69 milioni di euro. Edison investirà in questa operazione che si configura come un partenariato pubblico privato poco meno di 25 milioni, parte a debito e parte con risorse proprie, senza pubblico contributo, tutti concentrati nel 2024, 2025 e 2026. Si tratta di una delle maggiori portate finanziarie a cura della civica amministrazione, i dettagli poi nel proseguo dell'articolo di Massimo Greco. Per UGL e UIL, stato di agitazione per i dipendenti comunali, in primo piano le rivendicazioni fra settore educativo e polizie locali, si delinea una nuova spaccatura con la CISL sul tema delle valutazioni. UGL e UIL si preparano a dichiarare lo stato di agitazione per i lavoratori dei vari dipendenti del comune di Trieste, in particolare per il settore educativo per la polizia locale. Domani al ricreatorio Toti, in programma all'assemblea con i lavoratori ai quali verrà presentato lo stato di agitazione da inviare agli organi di competenza a inizio 2024. Il primo tema all'ordine del giorno è quello delle valutazioni, spiegale il segretario provinciale dell'UGL, Ottorino Marchiano, che a tutt'oggi non trovano equità nei vari dipartimenti. Sosteniamo che andrebbero premiati tutti quelli che lavorano bene, tenendo conto anche del numero dei dipendenti nei diversi settori. Ci sono poi la mancata sostituzione del personale educativo e lo sforamento dei rapporti numerici educatore-bambino, specialmente nei nedi di infanzia e negli oratori pomeridiani. Un altro problema di primaria importanza è la mancanza di personale per i bambini con disabilità, continua l'esponente dell'UGL. I servizi educativi garantiti dal comune in questo senso sono carenti, mancano insegnanti, ha detto Marchiano. Pagina successiva, gli eventi dalle magliette patocche alle caffettiere vintage, il mercatino della creatività saluta del 2023 in Città Vecchia. Ultima edizione dell'anno in versione natalizia per Barbacan produce fra tre stine affezionate e turisti presenti per il ponte dell'immacolata. Qui le foto delle ceramiche, degli articoli vintage, delle t-shirt, dei berretti di lana e del pubblico che ha affollato la zona dei mercatini in Città Vecchia, da zona Arco di Riccardo, piazza Barbacan dunque, ma non solo. Le altre notizie, l'anticone che sfidò la legge per difendere la sua morale inaugura le elezioni di storia. Il Verdi torna a riempirsi per il nuovo ciclo stagionale in occasione del debutto con Laura Pep, docente di diritto greco antico a Milano. Andiamo nelle altri comuni della provincia di Trieste, primo step per ampliare il centro studi alla Foibara, delibera della giunta di piazza, l'obiettivo è realizzare una sala conferenza da 160 persone, spesa da 1 milione e 600 mila Euro, studi di fattibilità dell'architetto Vrabek. Ancora a Trieste, a Opicina, leghetto di Percedo, il torno e presepe di Nonna Bruno, presente anche il coro degli Alpini per questa inaugurazione. Andiamo a Muggia, articoli vintage e natalizi nella versione decembrina della Corte dei Miracoli, il mercatino di ieri in centro a Muggia. E poi gli allievi dello Zaule, 74-75, insieme 48 anni dopo il magico campionato. I protagonisti delle trasferte di allora in Trentino e Campania si sono ritrovati l'altra sera rievocando i successi di quella stagione. Le altre notizie, Ansmi è consulta studenti, ecco la carta di Trieste per i giovani. Poi un animale regalo per Natale deve essere una scelta condivisa. Questo articolo vuole invitare alla riflessione prima di un regalo a cuor leggero quando si tratta di un cucciolo di cane o gatto, che sia anche altri animali domestici. La foto del giorno con un tramonto infuocato e poi alla Beata Vergine del Rosario, messa degli ex carabinieri. Proseguiamo con le pagine della cultura. De Gasperi, architetto manager, lasciò un segno sulle rive nell'armonico Hotel de la Ville. Un volume di Fabiana Salvador ricostruisce la figura e opere delle professioniste ticinese, personalità di spicco nel panorama edilizio triestino dal 1830, morì cadendo dal teatro Armonia. Qui ci sono diversi illustrazioni e foto dei palazzi del centro che rendono l'idea circa lo stile dell'epoca. L'Armel Gospel Schuar fa tappa mercoledì al Politeama Rossetti per quanto riguarda la musica. Pinocchio e il suo mondo riletti nella doppia personale di Pierri e Possenelli, alla Double Room di Trieste storia di un burattino con acquerelli e sculture in legno e gomme da bicicletta. Ancora alle 17.30 l'oro del diavolo ai lunedì dello Schmidl con Elisabetta Derme. Gli altri appuntamenti lo schiaccianoce Rossetti e una fiaba che appassiona domani con la Roma City Ballet Company e le coreografie del fondatore Luciano Cannito. Cari Leighton alla libreria Lovat domani dalle 15 in poi per andare agli appuntamenti di mercoledì e giovedì la coscienza chimica di Zeno Cosini nel romanzo di Svevo. Alle 19 per la giornata della montagna Riccardo B e l'ultima via al teatro Miela i docufilm di Emanuele Confortin e andare a poi andiamo poi a leggere la biblioteca Stelio Crise il secolo di Aldo Bressanuti prorogata al 29 di dicembre. Ora lo sport con il basket, Trieste continua il volo, settimo sigillo con Nardò, pesano i panchinari, quarto successo esterno consecutivo per i biancorossi che si impongono 83-75, il solito Reyes è il top scorer ma nell'un lungo c'è la firma di Vildera e il contributo di Campogrande. Ruzier una regia da manuale, Candussi e Filloi serata no, Ruzier incassa il voto più alto per la partita di ieri, anche Reyes una partita di alto livello, meno in forma altri giocatori come Candussi e Filloi come leggiamo dalle pagelle di Raffaele Baldini. Ancora basket con coach Cristian in foto e le sue parole nel dopogara, test duro, il nostro segreto si chiama resilienza, ha detto l'allenatore. Qui la classifica della Serie A2 di basket, il girone rosso con Forlì a punteggio in testa, la classifica a punteggio di 22 punti, così come la fortitudo Bologna, seguono Udine, Trieste a 20, Verona a 18, Nardò a 14 assieme a Piacenza, 10, pallacanestro 100 a 8 punti, Rimini e Cividale 6 orzi nuovi e chiusi ultima con 4 punti. Nella prossima giornata, il prossimo turno, il 17 dicembre, la pallacanestro Trieste ospiterà la squadra di 100. Abbiamo visto il dopogara, qui la foto in grande di Ruzier in un momento di azione, le altre partite, Forlì raggiunge in vette la fortitudo, Udine al Carnera regola la squadra di Verona. L'Unione invece sa sempre rialzarsi dopo uno stop, poi la terza volta reazione immediata a una sconfitta, il derby con il Padova, si giocherà a Rocco, manca soltanto l'ufficialità per la giornata del 22, sarà un venerdì e la gara è prevista in serata e si delinea la conferma della partita a Trieste allo stadio Nereo Rocco. Pavleve il nuovo ruolo a sinistra, la panchina alla nostra forza, ha parlato il terzino della Triestina dopo la vittoria su offerta che è arrivata anche grazie, soprattutto grazie ai due gol segnati da Andrea Dorante. Andiamo a rivedere le fasi principali del match, della Trieste. Cambia gioco, Celeguin, Reia pronto a ricever palla, non lo fa, si va dall'altra parte nuovamente per Pavleve, cambia gioco della Triestina ancora, cross in profondità per la testa di Finotto, il pallone ribattuto, recupera Durso, palla al centro, testa di Adorante e il gol, 1-0 per la Triestina e scelta del mister Tesser che viene così ripagata con questo gol del 23enne attaccante già l'anno scorso in Maglia Unione, colpo di testa ben direzionato, preciso nell'angolino e la Triestina va sull'1-0 qui a Fontana Fredda. C'è Fumagalli sul pallone, il pallone profondità e gol, gol della Gianna Erminio che impatta la gara sull'1-1 con il proprio bomber Fumagalli, 1-1, gran punizione bisogna dirlo e 1-1 per la Gianna Erminio. Redan, il pallone al centro, teso, il pallone che arriva sui piedi di Adorante, il tiro, e gol! Triestina e gol! 2-1 dell'Unione, doppietta di Adorante, Triestina magica del finale, ribalta una partita che sembrava chiusa sul pareggio, ovviamente non è finita ma ovviamente stasera il man of the match è Andrea Adorante. Urla incontenibili qua della tifoseria della Triestina, Triestina 2, Gianna Erminio 1. Secondo tempo dal mille emozioni e finisce così. Triestina, quinta vittoria in serie qui allo stadio Tognon di Fontana Fredda. Mano nella mano, tutta la squadra assieme, i rossi da Bardati e la curva, una storia d'amore che continua. E grazie anche a questa vittoria la Triestina resta nella scia delle prime del girone, abbiamo visto il titolo di prima del piccolo, anche le parole del terzino Pavlev, il nuovo ruolo a sinistra, la panchina è la nostra forza nell'intervista di Guido Roberti. Pieno di vittoria Fontana Fredda, che infatti l'esilio di Fontana Fredda fa disperare i tifosi rossi alla Bardati, ma poi la squadra, il Tognon è un portafortuna. Cinque le partite giocate e con la vittoria sulla Gianna di Sabato, l'Unione ha ottenuto un unplane di successi in questo campo, la Triestina ha vinto tutte le partite. Inter-Juve, i nomi delle rose e non solo fanno la differenza, scrive Giancarlo Padovan nell'analisi della calcio di Serie A, soprattutto delle squadre che si giocano allo scudetto. Allo Zaule Rabuiese il derby di Sistiana-Seslian viene travolto, 3-0, basta un tempo di gioco ai Mugesani per avere la meglio sui gialloblu, Menichini, Olio e Potgornik mettono i tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Le altre partite, Specogne l'U della Juventina, la capolista Brian Calail Tris è finita 3-1 per Brian Lignano contro la Juventina. Scivolone della Pro-Gorizia, Poker del Fiume Veneto in casa a Gorizia è finita 1-4 proprio contro gli avversari di Fiume Veneto. Chiarbola Ponziana in estasi con le doppiette di Sistiani e Sain, spettacolare 4-3 contro il Tamai, qui in foto il presidente del Chiarbola Ponziana Roberto Nordici. San Luigi è l'ultimo respiro, Marin affonda la spalla all'84esimo è finita 1-0, vittoria di misura in via Felluga. Kras Repen a forza 6, l'UFM inciampa in casa, buon pari per la Victory, punti esterni anche per Ronchi e Pro-Romance Medea, niente da fare per la Cormonese battuta dalla Varian. Kras Repen, Sant'Andrea San Vito è finita 6-0, Varian contro la Cormonese 2-1, Monfalcone ha perso con Sevegliano 0-2, Virtus Corno Trieste Victory finita 1-1, ancora San Giorgina Pro-Romance 1-1, Trivignano-Ronchi reti bianche 0-0. Qui ci sono tutte le classifiche della serie D, dell'eccellenza della promozione Girone B, la prima categoria e la seconda categoria sia del Girone E che del Girone F, Azzurra e Muggia KO, Roianese e Isonzo si avvicinano, le prime due della classe perdono, il Breg regala spettacolo, Lufi vince e convince, Bene Costalunga e San Giovanni fra gli altri risultati. Fortezza fermata dal Castionzo, il Mossa regola alla Gradese, Turriaco sul Velluto col Moraro nella seconda categoria Girone E, Domio 10 gol al Primori e il Torre ne fa 7 al Primorez, Vesna 5-1 ai Salesiani nella seconda categoria Girone F. Pallavolo, la Virtus punita dalla capolista Usma in una partita giocata a viso aperto, miglior prova dell'anno, poi la squadra terrestina di Dapiran, Corvi dice, splendida gara e ci mancava la centrale Martina finita 1-3, Virtus contro Usma Padova. La Serie C femminile, lo Zalet va ancora a segno e punta al terzo posto, l'Olimpia cade a Pordenone, la Serie D femminile, il CPD Mossa travolge 3-1 all'antica Sartoria Volley Club, il Conto velcrolla col Faedis, l'EBS trova il primo punto nella sfida infinita con il Buia, persa in casa al quinto set, pallavolo, Serie C maschile, l'altura vince il derby delle neopromosse contro il Volley Club, in campo i padroni di casa si sono dimostrati più squadra, rota abbiamo avuto una nuova formazione, serve tempo nella Serie C maschile, lo Slow Volley rimane in vetta, i tre merli cadono a Savogna, nella D maschile, lo Sloga Tabor passa a Muzzana, l'Aurora Volley beffa i tre merli. La Serie B interregionale, lo Iadran ci prende gusto, vittoria contro Derzo, Battic Radia con 34 punti, doppia medaglia d'oro per cannone della Trieste Tuffi nell'Alpe Adria a Zara, verso i Tricolori, con la spedizione della Trieste Tuffi proprio a Zara. I risultati ottenuti. Borinco Starrowing, spettacolo sulle rive nella manifestazione dell'SGT Nautica, oltre ai Bianco Celesti in evidenza gli armi della Timavo e della Pullino, la due giorni di regate raccontate da Maurizio Stolin in questo articolo. Mayflower, cattiva compagnia, i Take Five Junior vincono a Lignano, con quattro prove si è concluso il campionato autunnale della Laguna e del Diporto, ultima tappa stagionale nell'Alto Adriatico. Il Judo, medaglie di bronzo tricolore a Ostia per Elisa Tognolo e Giada Finotti. Qui la foto di Elisa Tognolo, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo a Ostia in occasione dei campionati italiani assoluti a uno di Judo, disputati nelle pala pellicone proprio di Ostia. e un'altra bella medaglia per Trieste è stata quella di bronzo, andata al collo di Giada Finotti, terza nei campionati italiani esordienti B a uno, disputati al sabato. Il calcio, il big match, Lukaku gol, illude la Roma, ma la Fiorentina riemerge. Giallo-rosso in vantaggio, suo assist geniale di Dybala, che poco dopo si fa male, pari di Martinez, quarta dopo il rosso a Zalewski, nel finale è spulso anche il Belga. Verso la Champions, l'Inter prepara l'assalto alla Real Sociedad, l'obiettivo è il primo posto nel girone. Il lunch match, Frasinone in emergenza, ferma il Torino sullo 0-0. Qui la classifica di Serie A con i turni giocati, ieri il posticipo si è chiuso 1-1 fra Roma e Fiorentina. La classifica vede l'Inter in testa a 36 punti, dopo la vittoria rotonda di 4-0 contro l'Udinese. La Juventus a 36 punti, che aveva vinto contro il Napoli l'altra sera. Poi Milan a 29, Roma a 25 al pari del Bologna. La sorpresa di questa prima parte di campionato. La Fiorentina e il Napoli a 24 punti, Atalanta a 23, Monza e Lazio a 21, Torino a 20, Frosinone a 19, a 16 il Lecce, Sassuolo e Genoa a 15 punti, a 12 l'Udinese, a 11 l'Empoli e il Verona, Cagliari a 10, Salernitana a Fanalino di Coda a 8 punti. Il marcatore per adesso al 14 reti è Lautaro Martinez dell'Inter con un rigore. Segue Olivier Giroud con 8 gol per il Milan, con 3 rigori segnati. A sette reti c'è la Noglu dell'Inter, ma anche Lukaku della Roma e Berardi del Sassuolo. Lo sci si arrende, saltano altre due gare a causa del maltempo in Francia e Svizzera. La Coppa del Mondo, cancellato il Super G femminile previsto a San Moritz, fermi gli uomini attesi dallo slalom speciale in Val d'Isere. Volley, Perugia sul tetto del mondo, suo il mondiale per club. Fioretto ha il Novi Sad, l'argento femminile vale il pass per i giochi europei in Vasca Corta, altri sei ore pagliazzurri, una domenica da sogno, i profili da Curtis fino a Nocentini, un gruppo pieno di talento. Qui Battocletti che è seconda, capolavoro nel fango negli europei di Cross. Noi ci fermiamo qui per quanto concerne la rassegna stampa, ci rivediamo dopo la pubblicità in compagnia di Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, buongiorno, benvenuto al consigliere del Partito Democratico in Comune, Luca Salvati. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie ancora una volta per l'invito. Stadio Rocco, forse si gioca, anzi probabilmente si gioca la sfida contro il Padova allo stadio di Trieste, dopo che comunque la parentesi fortunata di Fontana Fredda si riproporrà quando poi lo stadio sarà oggetto degli interventi necessari per rimettere a posto il banto erboso Salvati. Cosa dice sullo stadio? Sicuramente il derby contro il Padova è una partita, inutile che lo dica io, senza ombra di dubbio, fondamentale per la città, ormai sempre sentita per varie vicende, e poterla giocare a Rocco credo che sia, perdonatemi la schiettezza, credo che sia veramente il minimo. Noi su Rocco stiamo continuando a chiedere tutta una serie di garanzie, non più tardi del penultimo, era il 20 novembre, quando abbiamo avuto consiglio comunale, io mi ero permesso, visto che così prevede il regolamento, di presentare una domanda di attualità con la quale chiedevo, che poi è stata negata l'attualità, ma a me spiace che il Presidente del Consiglio non abbia compreso che l'attualità derivava dal fatto che nel frattempo c'è stato uno scambio di delega, perché come sappiamo la delega allo sport è passata dall'assessore Rossi all'assessore Lodi, e quindi chiedevo per l'appunto dove si terranno i concerti speciali e di ultimo, visto che come sappiamo c'è stato, e meno male, c'è stata una gran quantità di vendita di biglietti, solo metà, come la si voglia vedere se solo metà o meno male che metà siano di Trieste, però gran parte sono anche appunto di persone che vengono quindi da fuori e che sicuramente porteranno non pochi soldi, quindi consumeranno presso le nostre attività commerciali, presso i nostri ristoranti, e quindi sicuramente Trieste sarà in quelle due date, sarà sicuramente quindi anche citata a livello nazionale, per come si svolgeranno, per quello che sarà poi l'audience e per tutta una serie di elementi e di risultati che si riusciranno ad ottenere. La domanda non è stata ritenuta attuale, nonostante il giorno dopo, non più tardi del giorno dopo, infatti la testata del piccolo riportava ancora delle nebbie sul tema, tanto che non abbiamo ben compreso neanche quale sarà il cronoprogramma, si parla di marzo, poi si parla... Quindi ci sono ancora delle... come dire, non è stata messa una parola risolutiva e definitiva sul tema, noi anche non più tardi dell'ultima trasmissione di Ringhe in cui eravamo presenti, avevamo chiesto, infatti l'aveva condotto a lei, avevamo presente almeno, come dire, se possibile per Natale chiarire... Io, francamente, sono dell'idea che i concerti non si possano tenere al grezzaro, lo dico... Al grezzaro... Non si possono tenere sia per una questione di capienza in primis e in secondo luogo perché ci risulta, essendo delle tappe zero, da quello che ha detto l'assessore Rossi, che è stato il primo ad avere appunto le interlocuzioni con gli artisti e con il loro staff, che ovviamente la richiesta era quella che si tenessero al Rocco. Quindi, come dire, ipotizzare su uno spostamento di quel tipo potrebbe rischiare che appunto gli artisti, se non tutti e due, almeno uno dei due, ma forse anche entrambi, potrebbero dire bene, noi andiamo altrove e rovinare così la piazza e il buon nome di Trieste. Quello che si diceva da tempo, io mi prevedo nel momento in cui c'è stata la prima partita, perché se non ero, ero contro il Trento, il 4 di settembre, secondo me era là da prendere il toro per le corna e rimettere a posto il grezzar per l'Unione, per la Tristina. Adesso invece sappiamo, così anche facciamo un po' di cronistoria, sappiamo che c'è stato questo trasferimento della Regione, neanche al Comune, e secondo me è molto grave che non sia stato dato al Comune, ma direttamente alla FIGC, con la motivazione di questo torneo giovanile, di cui neanche di questo si sanno le tempistiche, ovviamente per rimettere a posto il campo, ma il fatto che il Comune sia proprietario e che la Regione abbia dato i fondi non al proprietario, ma alla FIGC, secondo noi la dice lunga sul come in primis la Regione reputi non adeguate le competenze comunali, in secondo luogo sicuramente anche se vogliamo, perché il Presidente della Tristina è stato abbastanza chiaro nel dire che ormai non c'erano più i requisiti per continuare a parlare con i Comuni, tanto che Fedriga, nonostante la Regione non abbia competenze di rete, era diventato l'ultima boa a cui rivolgersi e quindi sicuramente anche perché dare quei fondi al Comune non sarebbe stato molto gradito anche al Presidente della Tristina, però è una vicenda che veramente da dove la si guardi non se ne viene a capo. Il nodo rimane quello del dubbio se la coesistenza fra concerti e partite, eventuali partite, degli eventuali play-off siano combinabili, nel senso che le date poi non ci sono ancora se non quelle dei concerti, quelle dei play-off non sono ancora uscite, però dovrebbero essere ravvicinate secondo quello che è il calendario consueto degli spareggi della categoria. La domanda è questa, se ora si rifà il campo, ora intendo dire dall'anno nuovo in poi, e rispondi a tutti i criteri come campo a tutti gli effetti senza più problemi di tenuta, quando poi verranno fatti i concerti? Si riuscirà a preservare questo campo? Repete e si ricomincia la telenovela da capo. Questa è un'altra domanda che ci sta, anzi grazie per lo spunto, questa è un'altra domanda che abbiamo posto e figuriamoci se non riusciamo ad avere garanzie sull'attuale, su che garanzie ci possano dare riguardo al futuro. Mi sono permesso appunto al dirigente del Comune, visto che era un'idea così, che diverse volte hanno venuto fuori, e se non sbaglio anche lo stesso sindaco di piazza l'aveva dichiarato, di riprendere in mano la proposta di mettere a disposizione i megaschermi che sono appunto presso l'impianto del Rocco, affinché almeno, visto che sappiamo che andare a fontana fredda non è facile per tutti, anche su questo... Beh, è una capienza anche molto contenuta... Esatto, molto limitata, e il fatto che siano stati messi a disposizione due pullman, questo è ciò che il Comune, ahimè, si è sentito di fare fino ad oggi, ho chiesto alcuni giorni fa, ho rimandato una mail appunto al dirigente del Comune chiedendo di poter usufruire e mettere a disposizione i megaschermi con appunto la partita in diretta, sto attendendo risposta. Leggiamo alcune mail, dunque, buongiorno, svegliatriese, inutile che il sindaco faccia un'ordinanza per i ciclisti che devono portare le biciclette a mano in alcune zone, ma i ciclisti non dovrebbero proprio andare nelle zone pedonali, speriamo bene, ma in questo paese delle banane è il menefreghismo che c'è, soprattutto di chi dovrebbe controllare, c'è poco da stare allegri, scrive Nevio, che si rifà all'ordinanza che è in mente, ed è in itinere negli uffici comunali, che riguarda proprio il traino a mano delle bici per le piazze cittadine, lo vediamo dall'articolo, la FIAB ha preso una posizione, ordinanza inutile perché c'è il codice della strada. Salvati, se vuole fare giusto due parole su questa mail. Mi scuso prima però, voglio dire, ci siamo dimenticati, credo forse la cosa più importante, le congratulazioni della Trestina che continua a vincere, terza a un punto dalla seconda, appunto, e quindi auguriamoci che continui così. Per quanto riguarda le bici, io credo, adesso vado sempre un po' meno, perché il tempo ahimè non lo facevo per transito stando in periferia, però mi direttevo parecchio ad andare in bici, io credo che, anche in questo caso, ripeto una cosa che dico, ma secondo me male non fa, ovvero quella di prendere e più che copiare, forse esportare dei modelli che già vediamo essere in alcune città. Su questo, mi scusi la parentesi, ma abbiamo visto nelle ultime settimane dei post di più di qualcuno che, se non sbaglio, era o a Padova Torino, mettevano i tram, no? A Torino, a Torino. L'utilizzo dei tram. Per quanto riguarda, quindi tornando alla domanda, per quanto riguarda i ciclisti, io ci vedo nulla di male, se anche nelle aree pedonali, ovviamente senza rovinare, perché quando si iniziano a fare delle corsie apposite per i ciclisti, ovviamente è un lavoro che sull'asfalto, come dire, ci può stare, ma sulle aree pedonabili, dove solitamente vengono utilizzati anche materiale non qualsiasi, cercare comunque di delimitare delle corsie per i ciclisti in modo che non si abbiano queste scene dei ciclisti che devono fare gli slalom con i pedoni, a mio avviso potrebbe essere un'idea sicuramente da considerare. Quindi dedicare corsie. Assolutamente, anche nelle aree pedonali. Altra mail, caro Pasino, non è facile andare a parlare con i poveri con una denuncia di erediti da 150 mila euro. Io sono Pasino? No, infatti, negli ultimi 5-6 anni Pezzali abbia fatto grandi cose a livello discografico, scrive un telespettatore. Guardi, allora, sono pienamente d'accordo che l'inizio di Spezzali è stato, come dire, stratosferico e che negli ultimi anni, ma se lo vediamo così un po' tutti gli artisti di, come dire, che ormai hanno una certa, come si suol dire, negli ultimi anni. Però so una cosa, che in gran parte delle feste che si va, soprattutto verso i finali, almeno quelli della mia generazione, il più delle volte si conclude mettendo le canzoni di Spezzali e può anche, anzi, non ha fatto queste grandi, come dire, queste grandi composizioni negli ultimi anni, ma il fatto che i biglietti siano andati in vendita subito con quella quantità a mio avviso la dice lunga. Domani, Salvati, cominciano le sessioni del bilancio in Consiglio Comunale. Corretto. Quali proposte, quali emendamenti lei sta preparando per affrontare il bilancio e su quali settori? Beh, guardi, allora, anche in questo caso la gran parte delle proposte vertono su quelle che poi sono le richieste, i temi più sentiti dai cittadini. Una cosa che mi sento dire è che noi del Partito Democratico, almeno a livello locale, non ho il Covid, ho fatto almeno, fino a alcuni giorni fa era così, dopo, a livello locale ci siamo, come dire, ci stiamo il più possibile predisponendo ad avere una maggior presenza sui territori. diverse volte, infatti, siamo stati accanto a quelle che sono state le riunioni fatte per l'appunto dai comitati. Il fatto che a Trieste oggi siano sorti un gran numero di comitati, come non era mai accaduto in passato, anche questo credo che la dice lunga, perché se sorgono dei comitati significa sicuramente che si vuole avere una certa rappresentanza, ma che ci sono anche tanti problemi che nei vari rioni si stanno sormontando. Io parto da Rione, che poi mi dicono se è nato una delle battute, delle constatazioni che ricevo via mail è che sono nato a Melara e che quindi mi prendo cura soprattutto di quel rione. Io credo che ultimamente, per quanto riguarda San Giovanni, Altura, un po' anche altri rioni, ce ne siamo occupati, varie palestre in giro per la città. Quindi sicuramente sul rione di Altura ancora una volta porremo l'attenzione, mi dispiace constatarlo, che l'amministrazione sul rione di Altura, anche quando abbiamo avuto le varie commissioni, io ho chiesto puntualmente se sono previsti dei fondi per i marciapiedi di Altura, gli uffici hanno detto no, in questo momento non ci sono fondi. Quindi il rione di Altura continua a essere in stato di abbandono. E questo è uno sicuramente, quindi, la manutenzione di strade e dei marciapiedi, soprattutto di rioni periferici, penso a Servola, penso soprattutto a quelli che sono nelle periferie, ma non solo, perché oggi stiamo vedendo che ci sono diverse transenne anche in giro nel centro di città. Quindi su un tempo si diceva, ci si prende cura solo del centro, ovvero della vetrina, oggi mi sento di dire, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono soprattutto i cittadini, che non ci si prende cura neanche più della vetrina della città. Sicuramente la manutenzione del verde, ho posto anche questo, un altro tema, l'ho posto in commissione su Villa Revoltella, che è sicuramente una delle ville più importanti, dei giardini che abbiamo, sia per il valore storico, noi ricordiamo che fino agli anni 2000 era la residenza estiva del sindaco, oggi invito i cittadini ad andare a vedere in che stato si trova, era anni fa, io ero al mio primo mandato in circoscrizione nel 2006-2011, erano state rimesse, quindi sono stati spesi non pochi fondi per rimettere a posto anche le serre, oggi in completo stato di abbandono. C'è la Casa Cacciatori che non solo è in degrado, ma che spesso ha fatto sì che i confinanti, la via confinante e via Mayra, siano dovuti intervenire loro per tutta una presenza di api, quindi ci sono veramente tanti, Villa Engelmann, speriamo, giusto per citare un altro, che prima possibile partino i lavori, però anche la stessa Villa Engelmann, continua ad essere in uno stato di abbandono, quindi anche sul verde. Dopo ho chiesto anche qua, era stato approvato un nostro, io ero il primo firmatario, emendamento per far sì che l'area del Fardinandeo, la parte alta, dove sappiamo esserci diversi tavoli venisse ampliata e si desse anche qua un avvio, una sperimentazione di illuminazione proprio con le nuove tecnologie, quindi vuol dire con dei pali di illuminazione alimentati da pannelli solari, anche qua nulla è stato fatto fino ad oggi e questo avveniva due anni fa. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni che noi continueremo a vigilare. Sulle aree gioco, considerato anche la devastazione che c'è stata a Barcola, noi vediamo soprattutto in estate che queste aree gioco, e meno male, sono particolarmente frequentate, piene quindi di persone, quindi chiediamo assolutamente l'implementazione di queste, nonché la creazione di nuove e ovviamente anche un occhio di riguardo su quello che deve essere, l'amministrazione deve avere nei confronti dell'ambiente, quindi di tutto il green. Andiamo da Gianluca Paladin che si trova quest'oggi sulle rive dove hanno posizionato le panchine e alle sue spalle ci sono ancora mezzi di lavoro all'opera per la costruzione della pista ciclabile e la sistemazione delle aiuole. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Bernardo, sì le panchine sono state posizionate, non ancora tutte, in realtà sono tante in tutto e il sindaco l'aveva espressamente sottolineato rispondendo, non senza una certa ironia, neanche a una segnalazione che era comparsa sul quotidiano, appunto perché non c'erano più le vecchie panchine, quindi dove si può sedere la gente? Ebbene, le nuove panchine sono state posizionate, gran parte, non tutte, dietro alle nostre spalle, fronte mare, ci sono ancora quelle che devono essere come dire installate, però continuano come rilevavi tu i lavori in una zona della città centralissima che è appunto quella delle rive. Sì, la pista ciclabile vedrà sempre più spazio, tra l'altro in fondo c'è un semaforo che si staglia proprio in mezzo alla pista ciclabile che mi ricordo mi dissero dovrà anche essere spostato probabilmente, quindi ulteriori lavori per far spazio a un tratto che vuole sostanzialmente collegare il più possibile questa parte della costa fino ad andare ovviamente alla fine delle rive e congiungendosi poi all'inizio con la pista ciclabile di Viale Miramare. Insomma sarà tutta una pista ciclabile continua, a parte la zona antistante a scala reale e quindi tra piazza unità e scala reale che appunto ci sono i masegni e quella zona ovviamente si è espressa alla sovrintendenza, non si può toccare, quindi si interrompe la pista ciclabile per circa 15 metri per poi riprendere immediatamente dopo attraverso le siepi che abbiamo visto anche prima, siepi che anche queste sono in fase di manutenzione perché ci sono le nuove piantumazioni, anche qui hanno messo nuove piante sempre per un lavoro sul verde che l'assessore comunale Michele Babuder ha spiegato anche la settimana scorsa, è già avvenuta anche l'asfaltatura ovviamente per quanto concerne la pista ciclabile, asfaltatura che dovrà vedere anche ovviamente la pitturazione di tutta la zona, quindi le linee da tracciare i simboli per pedoni e ciclisti, però tutto sommato il lavoro sta procedendo abbastanza speditamente, non dovrebbe essere questione di troppo tempo, gli operai in questo momento stanno lavorando come ogni giorno proprio per terminare il più velocemente possibile questi lavori, lavori che avevano inizialmente creato un pelo di disagio come anche le segnalazioni c'erano state, ma in realtà è un disagio che è rientrato immediatamente perché davvero a parte vedere il cantiere in corso si può camminare molto tranquillamente e logicamente non attraverso la zona dedicata alla pista ciclabile che è ancora totalmente transennata, infatti abbiamo chiesto qui agli operai di poter fare vicino loro qua una ripresa per far vedere la continuazione. Bernardo tra l'altro volevo avvisare che fra poco ci spostiamo e andiamo da Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi Trieste all'Hotel Italia proprio per fare il punto della situazione un po' del periodo, il weekend appena passato, come va col turismo e negli alberghi e soprattutto qual è la speranza per il futuro, cioè il trend turistico, l'affluenza che c'è sempre stata da un anno a questa parte continuando per l'estate e anche per l'autunno, si è fermata, avrà un arresto, ci sarà un momento di flessione oppure ci si attende un flusso turistico sempre costante, visto che mi pare anche è appena passato il weekend dove si è visto anche un paio di navi da crociere che erano proprio qui ormeggiati. Insomma queste domande le rivolgeremo a Guerrino Lanci fra poco, capiremo anche però se riusciamo a sentire il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, naturalmente ti avviso in base ai nostri spostamenti e cambiamenti di programma. Innanzitutto ti ringrazio e ti restituisco la linea. Grazie, grazie a te, grazie a Giulio Capaladin dalle Rive. Leggo una mail che è proprio in linea sull'argomento di un attimo fa anche per le piste ciclabili. Alida scrive Buongiorno, volevo chiedere cosa dice la normativa della Polizia Municipale sul transito di biciclette sulla strada in presenza di ciclabili, è obbligatorio usufruirne o no? Vedi Barcola dove sono tutti sulla sede stradale anche quelle bici che passeggiano. Qui non è tanto il regolamento della Polizia locale quanto il codice della strada che dice che nell'articolo 182,9 i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono salvo il divieto per particolari categorie di essi con le modalità stabilite nel regolamento. Quindi senza dubbio se c'è una pista ciclabile parte longitudinale della strada opportunamente delimitata riservata alla circolazione dei velocipedi articolo 3 del codice della strada, le biciclette sono obbligate a percorrerle non intralciando il traffico veicolare e pedonale, sono esclusi dall'obbligo ai ciclisti che partecipano a competizioni sportive autorizzate mentre nel fantomatico regolamento citato l'articolo 182 non c'è mai stata traccia. Attenzione però perché va precisato che il ciclista è obbligato a transitare sulle piste ciclabili quando esistono ma solo se sono a uso esclusivo dei velocipedi. Come più volte specificato dal Ministero dei Trasporti con apposite circolari, se la pista prevede un utilizzo promiscuo, per esempio ciclo pedonale, l'obbligo di percorrenza delle biciclette non sussiste più. Il comma 9 dell'articolo 182 del codice della strada parla infatti di piste riservate ai velocipedi mentre una pista ciclo pedonale non lo è, essendo aperta anche alla circolazione dei pedoni. Ovviamente durante l'attraversamento di una pista ciclo pedonale il ciclista deve procedere a velocità molto moderata, non oltre 10 km orari per evitare pericolose collisioni con le persone. Quindi caso di barcola o caso delle altre piste che sono sia ciclisti che pedoni, il ciclista che transita in viale Miramare in strada non è obbligato, secondo quello che scrive la legge, ad andare esclusivamente nella pista ciclabile. Va da sé che ci sono situazioni in cui i ciclisti forse avrebbero anche il loro vantaggio nell'andare nella pista ciclabile, vedi il tratto di viale Miramare rifatto diciamo dalla zona di partenza dove c'è il frittolin fino alla marinella, poiché è largo, appena asfaltato, ultimamente anche semideserto, al contrario delle zone del periodo estivo quando proprio lungo viale Miramare c'è un traffico che va al loro discapito. Salvati, poi la telefonata. Beh no, beh, devo dire che è una delle poche volte in cui mi trovo d'accordo con il senso della norma, anche perché chi va in bici solitamente lo fa ad una velocità, come dire, anche per chi va in bici per spostarsi per lavoro, non stiamo parlando solo chi va in bici per sport, lo fa ad una velocità, come dire, abbastanza sostenuta, non tutti, ci tengo a dire, e avere sulla stessa corsia sia i ciclisti che i pedoni, a mio avviso può essere veramente poi fonte di pericolo. Ovvio che l'ottimale cosa sarebbe? L'ottimale, però lo vediamo, perché se andiamo nella vicina Copper, non serve che andiamo dall'altra parte del continente, ma nella vicina Copper noi vediamo che tranne in alcuni veramente limitati punti, c'è sia vicine, c'è sia la pista pedonale, c'è sia la pista appunto pedonale, che anche quella per i soli velocipiti. Io credo che Trieste, adesso con tutto il rispetto per Copper, ma qualcosa in più a Copper credo possiamo vantare per il flusso di turisti, per comunque per tutta una serie di elementi, dovrebbe essere sempre di più portata ad un modello di questo tipo. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? No. Sì. Quasi Boris. Prego. Un saluto al suo ospite. Buongiorno. Volevo ricordarvi che quando c'era Cosolini, in che condizioni c'era il parco di Miramare, apprezzo tutti gli appunti che fa sulla, come che si è finita, la città, ma se ricordi momentin che Cosolini ha fatto una ciclabile in Campo Marzio e la vendimentale in che condizioni che le ha. Grazie, saluti Boris. Grazie. Salvati. Non credo di essere stato persona che a tutti i costi si è sentita di dover difendere le amministrazioni del proprio colore politico, anche perché anche oggi, così vado all'attuale, credo che fare anche un'autocritica e sapere ammettere laddove il proprio partito sta sbagliando, e il PD sta facendo anche oggi degli sbagli, non è che ne ha fatti solo in passato, perché il salario minimo, in parte condivido, poi se ne lava troppo prontamente le mani, la Premier Meloni nel dire come sono stati al governo per dieci anni e avrebbero potuto farlo, verissimo, ovvio che non possiamo andare avanti, perché poi ci sentiamo Fedriga e ci sentiamo ancora alcuni del centro-destra, in quel caso sono al secondo mandato, dare la responsabilità del taglio della sanità alla Seracchiani, ma dobbiamo anche ricordare che oggi centro-destra a livello nazionale, regionale e locale non ci sono più scuse. Se non sbaglio il parco di Miramare è competenza statale, credo che il sindaco possa fare poco. E vede, ecco, e là sicura, beh io ricordo adesso non voglio dire, ma mi pare che il primo che abbia messo dei fondi importanti sul parco di Miramare, voglio dire se non sbaglio è stato proprio Franceschini che era il ministro alla cultura, quindi ha risposto già in parte lei e in secondo luogo ancora una volta a Trieste abbiamo avuto la dimostrazione, come è stato Zeno D'Agostino per il porto, che avere delle persone con una certa autorevolezza, con una certa responsabilità, che hanno quindi la capacità non solo di attrarre fondi, ma di gestire al meglio quelle strutture come è appunto Andrea Contessa per il parco di Miramare, beh, faccia la differenza. Andiamo in pubblicità, breve pausa, ci vediamo tra qualche minuto. In diretta 8 e 37 minuti circa, in compagnia di Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico, dovremmo avere una telefonata, buongiorno. Arrivo un giorno. Niente, abbiamo diverse mail da leggere, Salvati, tenete presente che gli imprenditori che hanno comprato Triestine e Pallacanese Trieste non si sarebbero fatti vedere se non ci fosse un'altra prospettiva di sviluppo del porto nei prossimi anni, questo è guardare avanti poi ogni imprenditore guarda i suoi interessi. Vista la presenza del Consiglio Salvati, cita un terespettatore, perché non si parla del disastro del reddito di ogni contratto costato 22 milioni, il bilancio della misura grillina, quindi del reddito di cittadinanza? Io riposo, se veramente sarò telegrafico, ripeto quello che è un mio concetto, secondo me non c'è, faccio fatica a pensare a un qualcosa di più diseducativo che sia stato fatto negli ultimi decenni riguardo al reddito di cittadinanza. Io ho sempre detto che quei soldi andavano, so allora per chi non ha capacità, quindi è inabile, andavano dati assolutamente, per chi si trova quindi in situazioni di non poter svolgere un'attività lavorativa, è sacrosanto e questo deve continuare a prescindere dal reddito di cittadinanza, anche perché lo Stato dovrebbe essere sempre, come dire, la prima attenzione va data a chi si trova in maggior difficoltà, per chi invece può prestare la propria attività lavorativa e magari, come succede più delle volte, ha anche un'esperienza di un certo tipo, torno a dire, quei soldi andavano dati in mano alle aziende, attraverso un aggratatore quel che è, l'azienda, secondo me, dopo non avremo mai, a meno che non lo faccia questo governo e non ci vedrei nulla di male se lo dovesse fare, le aziende avrebbero potuto mettere vicino altrettanti, ma anche una quota minore rispetto ai 700 erotti, nel frattempo come dire, avevano quindi, perché non è vero assolutamente che non c'è richiesta di lavoro, il problema è un altro, il problema è il fatto che non si incroci la domanda e l'offerta perché giustamente con quello che è oggi la qualità, il peso della vita, se così lo vogliamo, perché poi quando vediamo dei generi alimentari di prima necessità che nell'ultimo anno sono balzati a un più 25, più un 30%, beh signori è un problema perché la capacità di acquisto delle famiglie vuol dire che diminuisce, ecco perché io sono dell'idea che torno quindi andavano dati alle imprese e le imprese nel frattempo quindi avevano la possibilità di un maggior personale, di formarli, ovviamente non avrebbero potuto tenere tutti, però nel frattempo cosa si faceva? Nel frattempo si andavano quindi per quelli che sono stati mi pare 3 anni, sia durato il reddito, 3 o 4 anni il reddito di cittadinanza, nel frattempo si andavano a strutturare, a fare delle riforme di politiche attive del lavoro, finito ai quali il percorso di queste persone, lì si andava il maggior numero possibile a inserire anche perché un'azienda, questo è il punto, un'azienda quando trova delle persone che sanno lavorare, che hanno determinate competenze, ha tutto l'interesse a tenerla, ovvio che questo va di pari passi, deve essere fatto con una detassazione, quindi far sì che le aziende siano favorite ad assumere delle persone, possibilmente a tempo indeterminato. Adesso chiudo veramente, ma io mi reputo anche fortunato e privilegiato a 40 anni a poter avere anche lei, dottor Gulotta e padre, ad avere una bimba di 8, quindi all'età di 32 anni sono diventato papà, ma oggi ci sono non pochi miei amici che non lo sono ancora diventato e lo devono diventare perché si trovano in una situazione di precarietà e credo che questo sia il maggiore, se così lo si può definire, il maggior fallimento dello Stato. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Bernardo, consigliere Luca Salvati da Claudio Visentini. Buongiorno, ciao Claudio. Buongiorno, buongiorno a tutti e carissimi. Chiedo al consigliere Luca se ci può parlare del suo noto impegno contro il terribile chile silenzioso che è l'amianto, sia nelle scuole, sia negli edifici, tipo dove io ho abitato, nel quadrillante Romelara, ancora esistente l'amianto in modo massiccio. E poi se ci parla della sede appena inaugurata degli sposti, in cui era presente assieme a Corrado Trevo, dello Stadio Rocco ha parlato in modo esoriente, però mi chiedo e chiedo il consigliere di battersi affinché per gli abbonati vengono trasmesse le partite giocate al Tognon su Maxi Schermo a Rocco. Un tanto sarebbe più che giusto per gli abbonati penalizzati. E infine se sono arrivati gli spogliatoi container al campo di Giampanelli tanto attesi. Grazie. Grazie, buona giornata, grazie. Claudio ci pone sempre delle riflessioni un po', appunto il primo è di cui non possiamo che ringraziarlo, di cui il primo appunto, dall'inizio del mandato noi abbiamo presentato appunto come primo firmatario una serie di atti tra cui una mozione proprio sul tema dell'amianto. Noi sappiamo che il Friuli, Venezia Giulia e in particolar modo la zona del Monfalconese e Trieste non primeggiano sicuramente a livello nazionale per la quantità di amianto utilizzato in diverse strutture come le scuole, caserme, in tutta una strada in porto era fortemente utilizzato e con ovviamente conseguentemente con quello che è anche poi il numero delle vittime che si sono susseguite nel corso del tempo ed è per questo che a livello nazionale i nostri parlamentari di qualsiasi colore politico dovrebbero continuare su questa strada perché non vi è ancora nei confronti delle vedove un pieno riconoscimento anche a livello risarcitorio. Ecco perché ponendo il tema noi abbiamo fortemente nel dispositivo dell'emozione che avevo presentato chiedendo tutta una serie di informazioni, quindi qual è oggi la mappatura e c'era stata data risposta in commissione, però avevamo chiesto che anche qua a Trieste come avviene appunto a Monfalcone ci fosse uno sportello facilmente accessibile e non possiamo che anche perché l'essere presente quel giorno era proprio sì, lunedì era una settimana fa, una settimana fa quando c'è stato questo passaggio delle chiavi, anche se un atto formale però non è solo formale, è anche in sostanza da parte del comune alla Santina Pasutto che è la perché salutiamo e ringraziamo per il lavoro che fa costantemente con il suo staff all'associazione Spostamianto, poi in piazza 25 Aprile a Borgo San Sergio, quindi anche in uno spazio dove veramente le persone, se vogliamo fortemente aggregativo, beh finalmente siamo riusciti anche su questo punto, su questo tema ad ottenere un obiettivo importante e l'associazione appunto non può anche in questo caso che esserne contenta. Continuerà la nostra lotta per quanto riguarda il comprensorio di Melara, siamo costantemente, sono costantemente in contatto con gli uffici, ci viene detto che ad oggi, così rassicuriamo anche, ci viene detto che ad oggi non ci sono anche perché l'amianto diventa pericoloso laddove c'è una lacerazione delle fibre, ad oggi ci viene, così ci viene detto, gli uffici che non ci sono, non c'è pericolo proprio perché è tenuto sotto controllo. Ovvio che vanno fatte una certa dismissione e su questo il 110 ha aiutato non poco perché si sono anche bonificati tutta una serie di edifici, però bisogna assolutamente continuare con attenzione su questa strada. Per quanto riguarda il Rocco, solo i maxi schermi? Beh, no, non è solo i maxi schermi. No, perché il resto l'abbiamo detto prima. Però se entro metà della prossima settimana il dirigente non dovesse rispondermi sarà mia cura nuovamente risolecitarlo per poi andare di persona. Ecco qua, mi permetta, Gullotta, una chiusa va fatta e devo dare atto perché va dato all'assessore Rossi che in una delle ultime commissioni si è preso la responsabilità di dire un qualcosa di sacrosanto. La politica deve tornare a fare la politica. Noi negli ultimi decenni abbiamo delegato troppo ai dirigenti pubblici. Cioè i dirigenti pubblici spesso, o perché la politica non lo faceva o perché delegava, avevano rivestito quasi anche dei ruoli politici a livello di scelte. No, su questo ci troviamo assolutamente d'accordo, anche se nella commissione era stata presentata una mozione più tecnica, però il ragionamento è stato fatto trasversale. Infatti io mi sono permesso di dire che su questo tema, ovvero dell'autorevolezza che la politica deve avere nei confronti dell'apparato amministrativo, che è quello che rimane, perché i politici passano, ma sono i dirigenti con tutto l'apparato che rimangono e soprattutto devono essere i dirigenti, vado veramente in conclusione, a dare il buon esempio ai dipendenti. Perché noi spesso diciamo che i dipendenti non lavorano adeguatamente, dovrebbero lavorare molto di più, che ci sono là tutta una serie di pratiche accantonate. Io credo che se i dirigenti sentissero molto di più l'apparato, quindi il comune in questo caso, come se fosse anche la loro azienda e se fossero quindi maggiormente responsabilizzati, sicuramente sarebbe un vantaggio per tutti, a partire dai cittadini. Andiamo ad ascoltare un'altra telefonata. Buongiorno. Scusate qui. Prego. Ecco, sostengo l'affermazione che ha fatto il nostro ospite riguardo i dirigenti. E qui forse per cambiare si potrebbe creare un sistema di cambiamento di questi dirigenti ogni tre anni, in maniera che ci sia un rinnovamento anche della guida, oppure diciamo che vengono valutati ogni tre anni. Un'altra cosa che vi chiedo è il discorso del MES, che lì so che ci sono delle controversie, c'è il muro della Lega, eccetera. Non so come la pensa il vostro ospite, senz'altro la penserà a favore, penso. Anche perché è comunque un debito che noi andiamo a fare ed è comunque un debito che si aggiunge al PNR. Sì. Per cui, diciamo, non è che non andiamo a fare un debito. E penso che in questo momento i soldini del MES servirebbero anche per dare un aiuto ulteriore alla sanità e alle problematiche che nascono con questa. Ecco, tutto così, la mia osservazione, il mio contributo è che se magari mi dà una assicurazione. Ok. Grazie a lei, grazie. Prego, Salvatore. Guardi, sulla tua nazionale dirigente è risaputo, a mio avviso è una delle cose che funziona meglio sull'ambito militare, si possono mettere in discussione tante cose, ma è risaputo perché lo vediamo, no? Come spesso c'è un turnover ogni tot dia, proprio per far sì che le, che non si creano quelle, si devono creare delle sane relazioni, no? Perché quel turnover? Proprio per far sì che non si creano delle situazioni cristallizzate, che è quel punto, esatto, che andrebbero solo a nuocere poi a quello che è il buon servizio alla comunità. Quindi sono assolutamente, assolutamente favorevole. Per quanto riguarda il MES già anticipato, io sono favorevole nella misura in cui quei fondi, proprio per il buono utilizzo che se ne deve fare, riescono a creare dei circoli virtuosi e allora sì che la dico, bene, possiamo anche permetterci di sostenere un ulteriore debito. Il problema nostro sta a monte, cioè noi sappiamo perché oggi, noi sappiamo che l'Italia spesso si indebita perché non eccelle nell'utilizzo dei fondi che vengono loro dati. Mi sento di, adesso non la conosco più la realtà, premetto, ma ho avuto il piacere di passare diverso, anche perché ho fatto poi la tesi di laurea, lo stage al consorzio di area di ricerca, che sappiamo essere a tutti gli effetti un ente pubblico, anche se sotto il Ministero dell'Università di ricerca. Io posso dire che il fatto che quell'ente, torno a dire, non so come sia oggi, questo avveniva nel 2009-2010, il fatto che quell'ente si reggeva, metà più o meno se ricordo bene, delle loro entrate, si reggeva sui progetti, quindi sulla capacità di attrarre risorse dall'Unione Europea e forse, se ricordo bene, anche qualcosa dal livello nazionale, beh, faceva sì che ci fossero dirigenti, infatti era la loro Michelone che noi sappiamo essere un manager della Fiat che era Presidente e c'erano non pochi dirigenti che venivano da realtà, da mondi dell'imprenditoriale. Questo dava, nonostante torno a dire che sia un ente pubblico, dava sicuramente una capacità di ottimizzazione delle risorse e di risultati che, ahimè, non lo si vede così di frequente. Siamo in compagnia nuovamente di Gianluca Paladin, che a sua volta è con il Sindaco di Piazza. Di nuovo a te, Gianluca, buongiorno. Sì, buongiorno Bernardo, ne abbiamo approfittato anche grazie al Sindaco che ci ha accolto nel suo ufficio per trovarci con lui prima di andare da Guerrino Lanci. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Chi abbiamo in studio? Luca Salvati. Ma dei DS o del PD? Non ha risposto, poi sentiremo la risposta di Salvati. Non ha risposto ancora, ha riso ma non ha ancora risposto. Lascio il mistero. Lascia il mistero, dice Salvati. Lascia il mistero. Allora, Sindaco, innanzitutto eravamo sulle rive questa mattina a far vedere la prosecuzione dei lavori. Si sta andando avanti abbastanza velocemente. Beh, termineremo entro Natale. Abbiamo avuto qualche giorno di brutto tempo, una bellissima pista ciclabile, 80 panchine, quello che aveva segnalato sul giornale che non c'erano le panchine, le abbiamo messe 80, così sarà felice, insomma. Avremo la possibilità di sederci lì e guardarsi i tramonti di questa nostra meravigliosa Trieste. Si entra nella fase della discussione anche del bilancio, Sindaco, adesso è un momento importante, ora siamo a dicembre, è un periodo un po' così, però insomma, a cosa si guarda dall'orizzonte? Innanzitutto ricordatevi, siamo uno dei pochi comuni che riesce a chiudere entro dicembre il bilancio. Cosa vuol dire fare l'assestamento a Pasqua? Vuol dire poter spendere nel largo del 2024 le risorse che avanzano. Altrimenti una volta arrivavi a settembre, ottobre, poi non riuscivi a spendere, andavano comunque in economia. E poi volevo spiegare ai cittadini. Quando sono arrivato nel 2001 avevamo 250 milioni di euro di debiti, oggi ne abbiamo 68. Quindi dice missione compiuta? No, diciamo che siamo uno dei migliori comuni d'Italia, abbiamo anche il 5% di ERA che vale oltre 200 milioni, per cui siamo un comune ricco. Ci sono tanti lavori che si possono fare nei prossimi mesi? No, ecco, questo volevo dire, certo si poteva anche spendere, 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 ma bastendo sempre debiti, invece bisogna cercare di equilibrare le cose. Le risorse che abbiamo a disposizione si spendono e poi con un bilancio così, che ripeto, probabilmente in Italia saremo unici ad avere questo tipo di numeri. Se tu pensi Venezia, Torino, Roma, Napoli, hanno dei debiti molto importanti. Sindaco, le faccio rispondere a questo. L'altro giorno ha parlato da noi Gianfranco Schiavone di ICS, portando dei numeri a fronte del fatto che ci sono ultimamente pochi arrivi, ha detto, quindi anche con la mancanza di tanti trasferimenti, devo pensare che i migranti vengono lasciati volutamente in strada e al Silos. Cosa risponde? Faccio io una domanda, Schiavone. Come mai quelli di Gorizia e quelli di altre città vengono a Trieste nel Silos dove ci sono i topi, il fango, il freddo, di tutto di più? Mi chiedo, ma come mai vengono a Trieste? Perché 30 da Gorizia sono venuti a Trieste? Che mi risponda il perché. Sindaco, se dovessi chiedergli com'è la sua giornata quest'oggi, impegni particolari, una lunga agenda? Come vedi qua, le otto e mezza ero in comune, finiamo a mezzanotte, ma va bene, insomma, avanti così. Gianluca ha cambiato il sistema di illuminazione pubblica. La città era tappezzata di persone, c'erano migliaia, centinaia di migliaia di persone, per cui sono molto soddisfatto di quello che sta succedendo e naturalmente porta tanto lavoro. E poi c'è il cambio di sistema di illuminazione pubblica, no? Beh, quelle sono cose che non incidono sulla vita dei cittadini, incidono sul... non ci sarà più era, mi sembra che arriva Edison, qualcosa di simile, però non è un grosso problema. Il prossimo anno probabilmente non avremo il problema di fare gli alberi, la ferranno loro, insomma. Sindaco, salutandola, le dico che andremo da Guerrino Lanci per fare un punto sul turismo, turismo che è sempre molto forte qua a Trieste, cosa ci si aspetta anche per il futuro? Ora siamo in pieno inverno, ma c'è il Natale. Beh, abbiamo fatto un novembre incredibile, perché di solito il novembre la città era vuota, abbiamo fatto un novembre incredibile. Beh, parlate con Guerrino Lanci, alberghi sold out, pieni di gente dappertutto, prenotazioni, arriviamo a gennaio, subito dopo arriva febbraio e via, avanti. Gianluca, la FIA, la FIA, la FIA di ordinanza del sindaco inutile. Grazie a voi, buona giornata a voi. Come è, Bernardo? Dimmi, scusa. Che oggi c'è sul piccolo la risposta della FIA sull'ordinanza del sindaco sulle bici a mano nelle piazze, reputandola inutile. Cosa dice il sindaco? La FIA reputa inutile l'ordinanza sulle biciclette per il centro città, cosa risponde? Un mese fa stavo per essere preso un bambino sotto una bicicletta che scorazzava per la piazza e ho deciso che le biciclette in piazza Unità, in piazza della Borsa e in piazza Verdi vengono portate a mano, perché se mi buttano sotto un bambino mi sento colpevole. Gianluca, c'è una domanda di Salvati. Questa è la risposta quindi del sindaco Bernardo. Una domanda anche di Salvati, il sindaco le farò rispondere anche questo. Prego, Salvati. Sarò veloce, buongiorno sindaco Roberto Di Piazza. Il mio è visto che stiamo andando verso il bilancio, è considerato che il centro-sinistra rappresenta il 49% della città, se riusciremo a trovare una via collaborativa e che quindi anche parte delle proposte del centro-sinistra varranno valutate e troveranno spazio nel bilancio. Salvati chiede, visto che ci si sta prestando la discussione del bilancio e visto che c'è il centro-sinistra che rappresenta il 49% dei cittadini, se saranno coinvolti nella discussione del bilancio in via collaborativa per discutere assieme delle cose. Intanto alle elezioni del primo turno avevamo fatto 31 a 47, tanto per specificare i numeri insomma, che dopo hanno promesso di tutto e di più che sono arrivati nel 49 e un altro concetto, uno. Dopo, qual era la domanda, scusami? Sarà collaborazione per quanto riguarda le risorse del bilancio, la loro discussione? Come sempre, anche perché c'è poco da dividere, insomma. Grazie al sindaco Roberto Di Piazza, grazie anche col signor Luca Salvati, grazie a Bernardo Gulotta per la linea, grazie sindaco. Buona giornata a voi, grazie. A voi la linea. Grazie Gianluca, grazie al sindaco, andiamo a dare una telefonata, buongiorno. Buongiorno, posso parlare con il signor Salvati? A lei, prego. Grazie, senza mio marito è morto per la mia ampa, io sono invalida, mio figlio non lavora, non è possibile trovare un lavoro per lui? Questa è la domanda? Sì. Salvati. Guardi, allora io credo che siano proprio, intanto, alla signora, come dire anche, non solo perché siamo sotto Natale, ma la nostra, la mia solidarietà, anche perché da persona che in passato non ha lavorato per più di un anno, so molto bene la frustrazione, credo che sia una delle cose più pesanti e che dia maggior sofferenza, non l'unica, ma che si possa avere sul nostro percorso di esseri umani. In secondo luogo, la signora porta proprio quello che è la vicenda di cui si parlava prima, il non riconoscimento per le vedove. Ahimè, noi non abbiamo, mi spiace dire questo, ma preferisco dire una dura realtà che non una bugia. Noi a livello comunale non abbiamo gli strumenti per poter dare e poter supportare una situazione di questo tipo. Per quanto riguarda il lavoro del figlio, che reputo essere sicuramente il tema più importante, non perché non lo sia quello della signora, quello che mi sento di dire, oltre a, come dire, andare nelle varie agenzie interlinali, anche qua e sul centro dell'impiego, doveva fare, sempre ritornando al reddito di cittadinanza, avrebbe avuto senso fare una riforma di un certo tipo che non c'è stata, purtroppo non sono un… mi piacerebbe poter aiutare veramente, proprio perché l'ho passato sulla mia pelle, chi oggi non ha lavoro e non posso che augurarle il meglio, ma aiutare il figlio a trovare un lavoro non rientra nei miei compiti. Altra telefonata veloce, poi chiudiamo questa prima parte, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, sono Silvia. Ci dica. Allora, scusate, una piccola postilla, il sindaco che ha detto che la sinistra ha promesso di tutto di più e quindi ha preso il 49, da che pulpito, vabbè, lasciamo perdere. No, io una cosa che mi ha colpito è che quel famoso bonus 110, no? Sì. Allora, io non discuto, intanto bisogna contestualizzare la cosa e in quel momento mi sembrava una cosa sensata e giusta, magari doveva essere fatta in maniera meno pesante, diciamo, però adesso ci sono persone che hanno la casa distrutta, io ho visto un servizio l'altro giorno, mi è venuto da piangere. Sì. Sì. Cioè, quando queste case già iniziate, almeno al 50% iniziate, dovevano essere completate, non dovevano essere accettate più altre richieste, va bene se dicono che è così, non voglio discutere, ma quelle iniziate dovevano essere finanziate per essere concluse, sono cittadini italiani, cavolo, ma come si fa ad abbandonare una persona con una casa semidistrutta? Cioè, un governo non può comportarsi così, perché non è un governo allora, è una cosa diversa, non ho capito io il disegno di questa gente, fatemi capire, quello che era iniziato doveva finire, doveva continuare ad essere finanziato fino alla fine, in modo che questa gente avesse una casa decente, finita. Cioè, fatemi capire, datemi una giustificazione per questa porcheria. Grazie, buongiorno. Grazie, salvati i telegrafici. Guardi, il super bonus invece, a differenza del cittadinanza, è stata una delle operazioni più importanti che si è stata fatta per mettere in moto tutta la macchina dell'edilizia che soffriva da parecchio tempo. Ha pienamente ragione la signora, non dimentichiamo però che ne sono apparsi di servizi, anche di imprese che avevano pompato le fatture. Ovvio che, mi viene da dire, si doveva anche prevedere che ci sarebbero stati dei comportamenti anomali, non corretti. Oggi bisogna assolutamente farsi, questo dovrebbe essere un'altra delle proprietà, che chi è iniziato a lavori abbia la possibilità di finirli e senza alcuna spesa, ovvero con lo stesso iter con cui si era iniziato e che i condomini e gli inquilini sapevano. Quindi se io dall'inizio sapevo che intraprendendo i lavori, lo faccio semplice, spendevo mille euro per la pratica, io devo, ho il diritto di finire quei lavori sempre con i mille euro, senza alcuna spesa aggiuntiva. E il governo su questo deve assolutamente mettere mano. Chiudo con la lettura di una mail. Buongiorno Bernardo, solo per dire che di recente ho avuto il piacere di fare la conoscenza del papà dell'ospite Luca Salvati, persona affabile e affidabile, scusate il gioco di parole. Pertanto se il frutto non cade lontano dall'albero sono certo che anche il figlio sia al pari di suo padre, cordiali saluti, Saverio, per lei, Salvati. Mi fa piacere, vi è dal riporto del babbo. Esatto, noi ci fermiamo per la pubblicità, grazie Salvati, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, in compagnia del Presidente del Movimento Trieste Libera, Roberto Giurastante, ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dunque, io volevo aprire con lei una tematica relativa all'ambiente e ai lavori pubblici, chiamiamoli con un grande cappello, quelli che riguardano il lungomare di Barcola, però nel dettaglio del terrapieno di Barcola. Abbiamo visto come nelle settimane scorse sono stati presentati alcune iniziative, alcuni progetti relativi proprio alla riqualificazione del lungomare, dopo le mareggiate, alla sistemazione e barrieramento a mare, proprio per evitare che queste mareggiate possano un domani ritornare impetuose a rovinare la costa e progetti anche sul terrapieno, dove ero lì presente subito dopo i giorni della mareggiata, quando ancora il mare era mosso, vogliamo dirla con sincerità, con l'erosione di almeno 3 metri della spiaggia, mi è stato detto dalla protezione civile lì sul posto, spiaggia e terrapieno che sono inquinati, giurostante, e lei lo ha testimoniato più volte. Certo, infatti il problema maggiore di tutti questi interventi che si vogliono fare sulla costiera Tristina e sulla linea di costa e anche parlando del porto di Trieste, sono rappresentati dal fatto che ci si trova di fronte a discariche, il terrapieno di Barcola che vediamo nelle immagini è una di queste discariche, una delle più grandi, si trova all'inizio del porto vecchio di Trieste e è stato realizzato come discarica comunale negli anni, tra gli anni 70 e 80 per una superficie di circa 120 mila metri quadrati e però l'inquinamento ha interessato anche i fondali. Per capire, tutte le discariche, questa è una delle discariche costiere che sono state realizzate a quell'epoca, prevedevano come modalità di smaltimento dei rifiuti, uno smaltimento appunto incontrollato, non venivano messe barriere di contenimento a mare, per cui sì, arrivavano direttamente ai camion e tali quali buttavano i rifiuti nello specchio acqueo e antistante. E quindi quello che noi vediamo è una parte dell'inquinamento, questa è la parte a terra e con il terrapieno che è stato realizzato, che è un terrapieno di rifiuti e poi c'è la parte marina, quindi l'inquinamento davanti al terrapieno che non è conosciuto, noi abbiamo informazioni e dati più precisi solo sull'inquinamento appunto del terrapieno perché è stato oggetto di più inchieste, è stato oggetto anche di un'inchiesta della Commissione Europea e tutte queste indagini hanno certificato uno stato di inquinamento molto grave in quanto si parla di rifiuti incontrollati, ma di tipo di ossine, fanghi industriali, quindi metalli pesanti, idrocarburi. Questa era una delle discariche in cui venivano per esempio smaltite le scorie delle ceneri del vecchio inceneritore di Trieste e non solo, venivano smaltite poi le ceneri anche che provenivano da inceneritori di altre parti d'Italia. Noi abbiamo trovato per esempio informazioni sul fatto che venisse utilizzato il terrapieno di Barcola per smaltire le scorie che provenivano delle ceneri dal Veneto e dalla Puglia, quindi da altre zone che ritenevano utile smaltire i propri rifiuti. Arrivavano qua via treno? Arrivavano qui prevalentemente via camion, via camion, diciamo, e in alcuni casi poi per quanto riguarda l'utilizzo più pesante si è arrivati ma più avanti nel tempo anche con l'utilizzo di treni. Ma il terrapieno di Barcola è fondamentalmente una delle discariche più rappresentative di Trieste e non è l'unica, non è la più grande comunque, è una delle discariche costiere che adesso si trovano ad essere interessate dai progetti di sviluppo presentati dal Comune di Trieste e dall'amministrazione pubblica insomma per quello sviluppo definito come riqualificazione del Porto Vecchio. Ora, uno dei problemi, a parte l'illegittimità che noi contestiamo degli interventi del Comune, della Regione, nell'area del Porto Vecchio di Trieste, che è Porto Internazionale Trieste, però uno dei problemi maggiori da risolvere è quello anche delle bonifiche delle aree inquinate. Cioè se io voglio fare qualcosa, non posso andare a costruire sopra una discarica di diossine. Allora guardi, io mi segno soprattutto questa parola, quella delle bonifiche, perché su questo voglio tornare tra un attimo. Devo dare la linea a Gianluca Palladini che è in compagnia di Guarino Lanci, presidente di Fedelalberghi, per fare il punto sulla questione turistica cittadina e poi fra poco avremo la pubblicità, fra un tre minuti circa, quindi dopo eventualmente ci ricollegheremo con Gianluca e con i suoi ospiti. A te di nuovo, buongiorno. Buongiorno Bernardo, sì siamo con Guarino Lanci, presidente di Fedelalberghi all'Hotel Italia. Grazie per averci accolto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quasi Natale, già un weekend di dicembre che ha visto anche le nuove casette, i nuovi addobbi, insomma tanti turisti triestini in giro a far comprare, un bilancio dunque di questo periodo e anche del periodo che verrà. Abbiamo avuto un ponte dell'8 dicembre ottimo, con gli alberghi quasi al tutto esaurito, qualche cameretta come sempre si trovava, ma l'occupazione come previsto era assolutamente alta. Previsioni per Natale sono di un Natale come sempre con presenze di turisti, da qui fino al periodo di Natale senza avere però il tutto esaurito, perché per quanto si riesca a crescere piano piano ma ancora non siamo al tutto esaurito, viceversa si prospetta un capodanno come sempre da tutto esaurito. Un periodo subito dopo Capodanno per il ponte dell'Epifania, grazie alle mostre, grazie al fatto che cade bene comunque anche l'Epifania, già con tantissime presenze per mostre, per il teatro ovviamente e per quelle che sono le manifestazioni a Trieste. Potrebbe esserci un leggero momento di flessione magari per la stagione sciistica dove la gente predilige andare a sciare? Come sempre, questo è comunque il periodo di bassa stagione per Trieste, non è il periodo di alta, comunque contrariamente a, o meglio come l'altro anno forse anche di più, abbiamo un periodo di bassa stagione che poi così basso non è. Comunque lanci in conclusione possiamo dire che è un periodo abbastanza roseo, da un anno e un anno e mezzo a sta parte insomma? Beh è roseo per diversi motivi, perché le persone che vengono a Trieste amano la città, gli piace e soprattutto tendono a ritornare o mandare altre persone. Siamo riusciti anche a contenere i prezzi, quindi il fenomeno di fuga dal prezzo alto non c'è stato, questo per gli alberghi ma anche per la ristorazione e negozi. Oltretutto, ripeto, con manifestazioni come i concerti, manifestazioni come il teatro, con tutto quello che è stato fatto per le mostre, comunque c'è un motivo per venire a Trieste tutto l'anno. Concludo con una battuta, se poi si potenziassero ancora di più i collegamenti trasferenti, forti, come abbiamo sempre detto, andrebbe ancora meglio. Avevo i capelli quando ho cominciato a dirlo, quindi direi che forse è un po' che lo diciamo, sì. Va bene, grazie a Guerrino Lanci, Presidente del Federalberghi, buon lavoro. Grazie, buon attare a tutti. Ti lascio la pubblicità Bernardo, grazie e ti restituisco la linea. Allora, grazie a Gianluca Paladin, abbiamo forse il tempo di sentire se c'è una telefonata prima di andare a pubblicità, poi torniamo dopo la pausa con Giurastante sulla questione bonifiche. Buongiorno, chi è in linea? Sì, pronto? Prego. Sì, buongiorno, volevo farmi una domanda riguardo ai migranti soprattutto. Prego. Volevo sapere, ma perché date sempre tanta pubblicità al signor Schiavone? E uno che, al di là che lui si sente l'imperatore dei migranti, non ha nessuna veste né pubblica né politica e parla a titolo personale, come a qualsiasi altra persona che si incontra per strada. Non capisco perché è sempre lui che deve… mi sono stancato di sentirlo sempre a concionare come fosse il giunto del signore, lui è l'unico che capisce le cose e volevo capire perché. Ecco, tutto qua. Grazie e buongiorno. Grazie. Noi interpelliamo il dottor Schiavone in quanto presidente dell'ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, che è una delle realtà di maggior volume a Trieste per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti, vincitrice di un bando della prefettura assieme alla Caritas e altre piccole cooperative che gestiscono tutti assieme l'accoglienza. Quindi è colui il quale a Trieste fra le persone che ha maggior polso circa i numeri è la gestione dei richiedenti asilo in città. Penso che sia abbastanza semplice la risposta e questo è, quindi non è che è particolarmente simpatico, bello o interessante come persona affinché Telequattro debba necessariamente sentirlo, ma è persona preparata sull'argomento, nonché, ripeto, presidente dell'ICS. Questa è la risposta, credo che sia esaustiva per lei e per tutti quelli, e siete in tanti, che me l'avete domandato e ce l'avete domandato noi di Telequattro. Non c'è nessun tipo di favoritismo che sfoci in qualcosa di personale, anzi, o di qualcosa di, diciamo, che abbia un secondo fine, ma ha un incarico e per quello lo interpelliamo. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Bene. Come compagnia di Roberto Giurastante, presidente del Movimento Trieste Libera, una mail ci aiuta anche chiedendo, buongiorno, è possibile che non si pensi mai alla desertificazione del verde e della distruzione di un ecosistema che si è formato su quel terapieno dove rindificano tante specie di uccelli, perché poi, adesso dobbiamo sistemare un attimo il microfono del Giurastante, perché poi qual è il discorso? Glielo faccio poi appena ripariamo l'inghippo audio mi risponderà. Lì, dopo tutta quella questione legata all'inquinamento di cui lei parlava, si è creata una sorta di foresta, ovvero noi oggi, e lo rivediamo anche attraverso le immagini che avevamo poco fa su YouTube, prese dal drone, noi oggi qui vediamo una sorta di bosco. Adesso le immagini ci aiuteranno, a parte la zona costiera, è tutto il verde che è nato, quindi lei mi aiuterà a capire, è nato sopra un terreno inquinato fondamentalmente. Allora, la domanda è, anche questo verde è un verde che noi dobbiamo ritenere inquinato? È un verde che nasce e prolifica e dà da mangiare in pollina insetti che vanno a attingere inquinamento? Questa è un po' la domanda. Poi andiamo sulle bonifiche. Allora, sulla rinaturalizzazione, come potremmo dire, spontanea del terapieno di barcola, o meglio, sulla naturalizzazione, visto che prima non c'era niente, non abbiamo particolari informazioni perché non sono stati condotti studi precisi. C'è una vegetazione molto variegata naturalmente, ma è ovvio che comunque la natura tende a ripopolare tutti gli ambienti e quindi anche in questo caso, diciamo, ha occupato un'area, ha ripreso un'area che è inquinata, sì, naturalmente, ma le piante che sono cresciute in quest'area inquinata non sono state verificate e controllate. Il punto è che non si doveva fare quella discarica, non si potevano scaricare quegli inquinanti direttamente a mare. Ora, un grosso problema è quello di riuscire a risolvere l'inquinamento, quindi a bonificare l'area in maniera efficace e bonificare significa asportare tutti gli inquinanti, non lasciarli lì in loco e sigillare con scogliere, con barriere davanti al terapieno la zona, perché poi si presenta il problema, come vediamo in questi ultimi tempi, delle mareggiate. Le mareggiate erodono le linee di costa e nel caso in cui ci si trovi ad avere discariche al posto di terreno normale, l'erosione disperde poi gli inquinanti contenuti nelle discariche a mare e quindi contamina l'intero Golfo di Trieste. Quanto costa bonificare? Allora, noi abbiamo provato a verificare quali sono i costi reali delle bonifiche di questa discarica, che è un esempio per Trieste. Diciamo, per una bonifica completa, quindi stiamo parlando di un'area di 100-120 mila metri quadrati in superficie, il costo è superiore ai 60 milioni di euro, più vicino, ci dicono, ai 90 milioni di euro. Se non sbaglio 5 milioni sono stati stanziati? Sono stati stanziati per ora solo nell'ambito dei progetti di sviluppo che vorrebbe realizzare ai comuni di Trieste solo 5 milioni. Non servirebbero a bonificare realmente la discarica, servirebbero solamente a blindarla e quindi praticamente si ripeterebbe un po' quello che è stato già fatto, per esempio, a Muggia sulla discarica acquario. Dall'altra parte di Trieste abbiamo una discarica più piccola, ma simile al terrapieno di Barcola, che è appunto l'acquario, che è stata addirittura poi riutilizzata come area balneare, senza fare la bonifica e quindi quella è una discarica in cui si trovano metalli pesanti, mercurio, visto che qualcuno in studio qui aveva parlato dell'inquinamento da mercurio nel Golfo di Trieste, ebbene, lo abbiamo anche nelle discariche, non solo nel Golfo, e purtroppo anche quella è una delle discariche che non sono mai state bonificate, è stata solamente protetta dalle mareggiate con un cordone di scogli e quindi una barriera artificiale per proteggere dall'erosione. Ma queste difese hanno una durata relativa nel tempo e l'azione erosiva del mare prima o poi comunque riesce a smantellare anche le barriere difensive e quindi l'erosione è assicurata. Ora, i costi sono elevati, come si diceva, parliamo quindi di decine di milioni di euro ma per ogni discarica. Le discariche presenti sul territorio, sulla linea di costa sono molte e riuscire a intervenire su queste discariche per la bonifica effettiva comporta degli stanziamenti straordinari. Ma qualsiasi progetto poi si voglia presentare su queste aree deve comunque comportare la bonifica, non il mantenimento della discarica tale e quale è la costruzione e poi l'edificazione sopra perché sarebbe inaccettabile e naturalmente renderebbe anche inutilizzabile per buona parte degli interventi quelle aree. Pensiamo ad esempio a un intervento che è stato recentemente proposto nel porto di Trieste che riguarda la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno verde nell'area dell'excesso. Parliamo anche in questo caso di una discarica, una discarica sempre costiera che si trova nel porto nuovo di Trieste vicino all'inceneritore, il termovalorizzatore di Trieste, quella è l'area e tutta quella linea di costa è pesantissimamente inquinata perché è stata utilizzata come discarica a mare e come discarica per la raffineria quindi l'esso quando era in funzione, quindi lì troviamo per esempio morchie e prodotti petroliferi che sono stati scaricati direttamente a mare. È stata investita dal retrostante discarica di Monte San Pantaleone che era un'altra discarica comunale, quindi i rifiuti poi venivano buttati a mare e quindi in questo caso troviamo doppio inquinamento della raffineria e della discarica comunale e quindi l'area è pesantissimamente inquinata, anche in questo caso il progetto che è stato presentato recentemente prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno, però prima bisogna bonificare i terreni su cui si vuole realizzare l'impianto. Non sono state fatte stime sul costo di quella bonifica ma valutando appunto la stima del terapieno di Barcole ci troviamo sempre nell'ordine di grandezza, dipende dalle superfici di decine di milioni di euro e probabilmente anche in quel caso staremo circa 50 milioni di euro per lo meno e questo è l'inquinamento che noi, ripeto, riusciamo a vedere a terra. Poi c'è il problema della dispersione degli inquinanti in tutte queste discariche costiere a mare cioè quelli che sono andati a finire senza alcuna barriera di contenimento nei fondali del Golfo di Trieste. Faccio una domanda, quanto è profondo, secondo la stima quanto è radicato in profondità l'inquinamento del terapieno? Il terapieno di Barcole arriva ad una profondità di circa 10 metri. Quindi io per 10 metri ho terreno inquinato? Sì, terreno inquinato e poi naturalmente digrada la discarica diciamo dove si vede per esempio la spiaggia poi comincia appunto il collegamento con il mare quella è la linea di costa della discarica e lo spessore di metri di inquinanti è appunto il corpo della discarica. Sono inquinanti appunto che sono stati scaricati nel corso di anni la tipologia era prevalentemente delle ceneri e degli inceneritori e rifiuti industriali. In questa discarica ad esempio quando era stata completata era stato completato l'utilizzo della più grande discarica di Trieste ricordiamocelo che era la Valle delle Noghere e quando non è stato più possibile utilizzare la discarica delle Noghere una parte degli rifiuti industriali che provenivano da industrie locali e non solo di Trieste compresa la ex Sider quindi Ferriera sono stati portati al terrapieno di Barcola anche questo naturalmente ha avuto poi un limite d'utilizzo anche terrapieno di Barcola e quindi terminato l'utilizzo come discarica è rimasto così tale e quale senza nessun intervento di bonifica stiamo parlando di da più di 40 anni e versa in questa situazione. Dobbiamo andare in pubblicità fra pochi istanti se abbiamo una telefonata la sentiamo subito buongiorno 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 Stiamo ascoltando adesso il signor Giurastante e io mi chiedo in tutti questi decenni cosa hanno fatto le autorità? Chi ha permesso tutto questo inquinamento? Cosa lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti? Cosa diranno di noi? Che abbiamo dormito? Sì purtroppo mi sembra che abbiamo proprio dormito in tutti questi anni e adesso loro si ritroveranno ad avere questa situazione Adesso tutti quelli che anche vogliono tombare vogliono fare ma la cittadinanza deve accettare tutto quello che cade dall'alto come l'assessore Scocimaro poco tempo fa ha detto che il golfo non è inquinato anzi i pesci sono troppo piccoli perché non hanno cosa da mangiare non lo so se è una bagnelletta o se purtroppo ci troviamo davanti a una situazione che nessuno è chiamato a rispondere nessuno sembra che non so ho fatto io l'inquinamento grazie una buona giornata a lei e al suo ospite grazie grazie allora approfittiamo per andare in pubblicità così dopo continuiamo su questo e su questo e su altri argomenti ci vediamo tra poco ok torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Roberto Giurastante Presidente del Movimento Trieste Libera ancora una telefonata poi facciamo un cumulo di risposte anche ad alcune mail che sono arrivate buongiorno collega Daudi Menor buongiorno prego stavo ascoltando qualche edizione del signor ospite ma in pratica come fate a come si chiama lì dovete fare che cosa prendere 10 metri di terra e portarli da un'altra parte ma da un'altra parte inquinate anche l'altra parte la cosa migliore secondo me come fanno le scariche qui che ho visto a sud di Udine mettono una bella coltre di giardica e sopra ci mettono il terreno buono per coltivare quindi si tomba fate anche così fate stesso discorsi dei bidoni di i bidoni di cosoli come si chiama di amianto oppure che cosa li mettono che un riparto sotto terra è un'altra cosa e intanto ascolto a Schiavone ma Schiavone dice tutto quello che i cittadini di Trieste di Udine dicono il contrario non vorrebbero più extracomunitari neanche i bambini senza accompagnamento 440 bambini che il comune di Trieste deve mantenerli e costano 280 euro al giorno dice il sindaco ma tenetevi lì gli extracomunitari non mandateli su a Udine tenetevi lì il sindaco che potrebbe mandare fuori i visili i visili comunali a controllare chi ha documenti e chi non ha documenti via subito con un aereo anche privato via su che ti costa meno grazie grazie Franco dunque diceva anche in questa telefonata che onere sarebbe l'asportazione di tutta la parte inquinata per quanto riguarda le modalità delle bonifiche si può fare tutto anche molto rapidamente basta essere organizzati e naturalmente affidarsi a imprese competenti ce ne sono le bonifiche vengono fatte e non possono essere fatte per se vogliamo risolvere effettivamente il problema dell'inquinamento a Trieste e nel porto di Trieste non possono essere fatte solo per una discarica bisogna valutare un intervento complessivo con quindi un progetto per la bonifica di tutte le aree inquinate allora a quel punto ha senso creare direttamente un impianto per il trattamento dei rifiuti direttamente qui a Trieste quindi nel nostro territorio quell'impianto diventa un impianto ma pilota che serve per gestire tutte le bonifiche e naturalmente si procede di scarica per discarica ma sarebbe troppo lungo noi iniziamo no perché proprio secondo le stime che abbiamo potuto vedere noi le bonifiche partendo dal terapieno di Barcola quindi dalla discarica di Barcola durano mediamente circa 5 anni per discarica ok quindi terapieno di Barcola in 5 anni è bonificato si procede poi con la discarica successiva ma volendo si possono affrontare anche le bonifiche di più discariche costiere messe a seme sono un problema di razionalizzazione e di organizzazione consideriamo ad esempio il tratto di costa che va dal terapieno di Barcola fino al mollo zero ecco quindi non è inquinato solo il terapieno di Barcola è inquinato tutta la linea di costa fino al mollo zero benissimo allora si procede alla bonifica prima di quell'area quel settore viene fatto in massimo 5-6 anni fatto questo intervento si passa alla bonifica di un'altra area quindi si libera un po' per volta l'impianto la linea di costa del porto di Trieste io dico iniziamo dalla parte nord quindi dal porto franco nord perché perché l'area è già interessata dal progetto della nuova piattaforma logistica che è già approvato quindi lasciando perdere i progetti dei comuni di Trieste che vorrebbero urbanizzare l'area se vogliamo puntare invece sul potenziamento e lo sviluppo del porto franco internazionale di Trieste dobbiamo solo realizzare la nuova piattaforma logistica la nuova piattaforma logistica si realizza dove si trova adesso il terapieno di Barcola tra il terapieno di Barcola e il mollo zero quindi quest'area diventa il nuovo la nuova il nuovo polmone di sviluppo del porto di Trieste cosa che invece ora è oggetto di ampliamento la banchina del molo settimo sì però quello è il porto nuovo e quindi parliamo appunto di un altro settore del porto scusate qui ci sono per esempio alcuni che dicono ma si tratta di propaganda che il porto di Trieste sta avendo da anni grandi risultati e che è diventato il primo porto italiano per movimentazioni commerciali movimentazioni eccetera bene ma se andiamo a guardare la realtà il porto di Trieste è dietro al porto di Capodistria di Copper e quindi il porto di Capodistria ha maggiore movimentazione ha più traffico del porto di Trieste essendo molto più piccolo e guarda caso il porto di Trieste è anche al vantaggio non indifferente di essere un porto franco internazionale cosa che non ha il porto di Capodistria quindi in realtà noi non possiamo non stiamo utilizzando tutti gli spazi che il porto di Trieste concede perché una parte del porto viene destinata semplicemente e abbandonata e un'altra parte del porto è occupata dalle discariche una parte è consistente un'altra parte del porto viene sottoposta alla speculazione immobiliare come il porto franco nord ok quindi ecco perché a Trieste abbiamo grandi secondo la politica italiana grandi risultati con non so 870 mila teo di movimentazione e a Capodistria ne hanno un milione quindi non dicono di avere grandi risultati semplicemente Capodistria è sempre avanti al porto di Trieste e basta ce ne rendiamo conto anche visivamente andando a Capodistria vedendo che tutti gli spazi del porto sono occupati dall'attività e dal traffico commerciale dalle macchine a tutti i tipi di merce e conterne andiamo nel porto di Trieste e vediamo spazi vuoti enormi spazi vuoti tra quelli che sono le aree inquinate tra le aree che sono bloccate dalle speculazioni immobiliare e dico mi sembra una cosa assurda pensare che noi dobbiamo rimanere avere l'unico porto franco internazionale che è il nostro che rimanga in questa situazione bloccato per gli interessi della politica italiana che lì vogliono diciamo che lì da progetto c'è l'idea di mettere una citavella dello sport nel terapia di marco come diceva prima franco l'idea è quella di tombare le bonifiche si possono fare rapidamente ma bisogna investire quindi rapidamente però sono i tempi necessari quindi bonifiche oltretutto fatte come bonifiche fatte in maniera meno invasiva possibile quindi con il trattamento del terreno inquinato la separazione degli inquinanti e recupero quindi del terreno una volta pulito ripulito e quindi rimesso in sede quindi alla fine noi abbiamo un contenimento anche dal punto di vista ambientale un contenimento per quanto riguarda la dispersione degli inquinanti chiaro se noi andiamo a scavare direttamente nei discarichi senza avere poi delle effettive misure di contenimento a mare creiamo una dispersione di inquinanti andando per settori un pezzo per volta si riesce a recuperare il terreno ripulirlo rimetterlo in sede una volta una volta fatto questo abbiamo l'area riconsegnata ma ci vogliono quindi bonificata ci vogliono almeno 5 anni almeno 5 anni è il tempo più rapido per la bonifica di una discarica con queste caratteristiche e stiamo parlando visto che sentivo qualcuno aveva scritto che il terapino in barcola non sembra così male visto che c'è la vegetazione e no stiamo parlando ma dal punto di vista gliela leggo possibile che non si pensi mai alla desertificazione del verde e della distruzione di un ecosistema che si è formata in quel terapieno dove nidificano tante specie di uccelli sì d'accordo io non so effettivamente se ci sono in questo momento nidificazioni di uccelli certo è che la natura riprende prende possesso di tutti i terreni è normale questo ma non possiamo dimenticarci che comunque finché permangono quegli inquinanti in queste discariche non solo il terapino in barco ma in tutte le discariche che noi ci troviamo purtroppo che sono state scaricate a Trieste finché non riusciamo a risolvere questo problema noi avremo un inquinamento perdurante nel tempo che continuerà a produrre i suoi danni e i danni non sono solo nei confronti dell'ambiente della natura ma anche nei confronti degli esseri umani quindi vi sembra logico andare a fare il bagno nelle aree balneari che si trovano in piena discarica o che sono realizzate sopra le discariche vi sembra logico realizzare avere impianti di mitiricoltura vicino a discariche di mercurio io penso che bisogna amministrare per chi amministra con senso di responsabilità nell'interesse dei cittadini ma naturalmente bisogna averne ben presente anche qual è la tutela della salute pubblica la tutela della salute pubblica si attua togliendo le discariche quindi eliminando le discariche bonificandole non lasciandole quindi costi quel che costi ma questi interventi devono essere fatti sentiamo una telefonata buongiorno buongiorno da Trieste prego allora mi metto una cosa allora quella che netta appunto di Barcola mi ricordo che era amica della famiglia del architetto Mario Silini che lavorava a suo tempo non mi ricordo allora l'idea era quella quando Iga è fatto sbancamento per creare per gli americani ha fatto quel palazzo che dopo si è passato allora di questa roba questo sbancamento potremmo apportare materiali qua e lasciare qua che creiamo un bel terapieno per la gente che fosse lo spazio eccetera allora Iga ha fatto la terapieno perché una volta ieri si andava col transei dai capolini a piazza Lodoni fino alla barca una volta se è girata l'estate era ben paziente il sole del caldo per andare fino a nire male così faremo un altro deconforto dopo di che gli oggetti il sessore questo Mario Silini l'idea mettere i pini e fare questa pinetta e grazie a Dio poi gli sta praticamente questo Mario Silini Triosti che però lavorava a Brescia e qua e l'ha diciamo creato qualcosa che ha fatto anche e che ha lavorato alla nave Puglia quando ti ha d'annuncio e che ha fatto il progetto del Castareggio allora adesso mi dico una roba che sarebbe una targa a nome suo e suo merito Mario Silini che poi il grosso ha avuto per combinazione due giorni fa che è figlio Mario Silini e che è eseguendo anche due giorni fa questo Mario Silini che era tanto importante dopo al museo esternatorale esiste una stanza dove c'è tante diapositive colori del calcio dipinti a mano lui ha fatto tanta roba Mario Silini che ha fatto tanto per Tieste e dopo noi l'avevamo tutti goduto a tutti i temi estimi tutto qua grazie signora grazie non conoscevo il cenno storico dell'autore di tutto questo grazie per quanto riguarda la pineta di Barcola sì è stato un altro interamento che è stato fatto dal governo militare alleato con appunto le macerie che si trovavano a Trestia ancora dopo la guerra a seguito dei bombardamenti ok però siamo passati poi da quel tipo di intervento ok che poteva essere considerato all'epoca in emergenza necessario alla standardizzazione di realizzazione di discariche costiere quando non c'era più nessun tipo di emergenza ma di quel tipo fatte però da rifiuti puri cioè quindi abbiamo peggiorato drasticamente intanto sulla qualità del materiale che è stato scaricato e le discariche che sono state realizzate poi dagli anni 60 in poi erano tutte discariche a mare ma anche sul Carso nella valle delle Noghere dove semplicemente si smaltivano tutti i rifiuti prodotti ok compresi quelli industriali quindi alla fine noi stiamo parlando per inquadrare ancora meglio la situazione di un inquinamento che per Trieste è un disastro ambientale un disastro ambientale fatto di decine di discariche che si trovano nella zona del porto nell'area costiera di tantissime discariche che si trovano nel Carso e tra queste anche le grotte purtroppo inquinate ma il modo di utilizzare appunto l'ambiente per smaltire ogni tipo di inquinante è quello che ha connotato appunto questa amministrazione dei rifiuti durata per decenni e questa amministrazione dei rifiuti dannosissima per noi adesso ha lasciato questa questa eredità pesantissima che noi in un modo o nell'altro dobbiamo affrontare dobbiamo risolvere questo problema e dobbiamo risolverlo pensando naturalmente al nostro ambiente che deve essere riportato il più possibile allo stato naturale ma dobbiamo pensarlo anche per la nostra salute di inquinamento ci si ammala e si muore ripeto non è tollerabile che si possano accettare discariche a mare e discariche inserite in piena area balneare e poi magari si vogliano realizzare nuovi progetti addirittura sopra le discariche adesso nel 2024 2023 2024 per favore quando ho sentito l'intervento dell'assessore dell'ambiente della regione qualche tempo fa qui lui diceva che l'inquinamento del Golfo di Trieste è praticamente dovuto esclusivamente all'apporto avvenuto negli anni passati di Mercurio dalla miniera di Idria in Zovegna mentre l'inquinamento del Golfo di Trieste è certo la miniera di Idria ha avuto tempo fa un ruolo nell'inquinamento da Mercurio nel Golfo di Trieste ma l'inquinamento di Trieste è fatto purtroppo dal massiccio inquinamento industriale che è stato fatto qui da noi sulle nostre coste e l'intero Golfo di Trieste purtroppo presenta i livelli di inquinamento da metalli pesanti che non sono solo Mercurio elevatissimi proprio per le discariche industriali che sono state fatte a Trieste quindi una nostra responsabilità anche nell'inquinamento avvelenamento dell'ecosistema del Golfo di Trieste quindi va risolto il problema delle discariche costiere va risolto il problema di tutte le discariche ma dovremo affrontare anche il problema dell'inquinamento dei fondali che è una cosa ancora più complessa da risolvere leggo una mail che arriva da Giorgio Marchesic buongiorno Bernardo perché il tuo ospite non accetta mai un confronto pubblico a Tele4 con il sottoscritto per chiarire una volta per tutte cosa ha fatto fino ad adesso il suo movimento Trieste Libera per Trieste e i suoi cittadini basta prendere per i fondelli i cittadini del territorio libero di Trieste penso che si possa rivolgere la domanda direttamente a lui per quanto riguarda prendere i cittadini per i fondelli guardate oggi per esempio 12 anni fa accadeva che il sottoscritto presentasse per la prima volta in tribunale l'eccezione di giurisdizione ovvero dichiarandosi cittadino del territorio libero di Trieste e rifiutandosi di partecipare alle illegittime elezioni tra le tante cose alle illegittime elezioni italiane imposte nel territorio libero di Trieste bene direi che questo è per esempio uno dei motivi se non il principale per cui noi con Marchesi non abbiamo nulla da vedere lui fa parte del sistema politico italiano e nulla c'entra con l'attuale territorio libero di Trieste cosa abbiamo fatto noi in questi 12 anni abbiamo lottato per difendere i diritti di tutti i cittadini di Trieste dei cittadini del territorio libero di Trieste abbiamo avviato numerose cause legali per ad esempio ottenere finalmente lo sblocco del nostro regime fiscale del territorio libero di Trieste che è indipendente da quello dello Stato italiano non c'entra nulla con quello dello Stato italiano abbiamo avviato cause per difendere il portofranco internazionale di Trieste abbiamo citato a giudizio il governo italiano amministratore civile provvisorio inadempiente del territorio libero di Trieste siamo tuttora in causa abbiamo mantenuto costantemente e coerentemente la nostra posizione e naturalmente non cediamo alle banderuole al vento come Marchese che invece ogni volta si fa propaganda per andare alle elezioni per partecipare a quelle elezioni che negano il diritto all'esistenza del territorio libero di Trieste in definitiva sul problema economico poi vorrei anche ricordare a tutti visto che è una questione che investe anche noi guardate le nostre azioni legali appunto quelle che sono una diga a difesa dei diritti di Trieste del porto di Trieste e dei cittadini di Trieste sono anche l'unico strumento efficace legale che noi abbiamo per fermare la deriva economica il disastro economico che comunque si sta abbattendo sull'intera Europa pensiamo ad esempio al patto di stabilità economico dell'Unione Europea che significa semplicemente che ci saranno imposizioni fiscali maggiori che tutti i paesi dovranno mettere a posto il loro bilancio e quindi dovranno e saranno richiesti sacrifici sempre più pesanti a tutti i cittadini bene noi a Trieste non dobbiamo pagare il debito pubblico dell'Unione Europea noi a Trieste non dobbiamo pagare il debito pubblico dell'Italia noi a Trieste non possiamo pagare le tasse che ci vengono imposte da un altro Stato quale l'Italia noi siamo tenuti a pagare solamente le spese che riguardano il debito eventualmente del nostro Stato che è il territorio libero di Trieste ma queste cose le possiamo ottenere solo esercitando i nostri diritti noi lo stiamo facendo lo stiamo facendo da anni stiamo comunque portando coerentemente a termine il lavoro che abbiamo iniziato proprio 12 anni fa e abbiamo naturalmente intenzione di difenderli i nostri diritti a livello internazionale fino a quando non ci verranno riconosciuti ecco questa intanto è la differenza anche tra chi fa chiacchiere e poi in realtà non fa altro che confermare il sistema politico italiano e chi invece sa benissimo che per difendere il territorio libero e i diritti dei suoi cittadini è necessario muoversi con i fatti e i fatti naturalmente sono anche quelli che ci portano a denunciare l'illegittimità delle elezioni di un altro Stato nel nostro Stato una vignetta simpatica di Englaro riassume un po' quello che ha detto lei prima e la vediamo e quel dice Zeuccio che ha fatto il bagno davanti al terapieno di Barcola ed è diventato un essere strano io mi ricordo quando visto che sono l'autore della denuncia e all'Unione Europea proprio della situazione dell'inquinamento del terapieno di Barcola all'epoca del sequestro nel 2005 quando erano poi stati dati i risultati delle prime analisi ecotossicologiche e allora si parlava appunto di un anzitutto anche di una sparizione di certe specie di pesci visto che proprio l'assessore Cosimaro quando era intervenuto aveva detto che le acque sono troppo pure nel Golfo di Trieste per cui i pesci non hanno di che nutrirsi e per questo scompaiono oppure sono troppo piccoli ma il problema era invece risultava che era che purtroppo tutto l'ecosistema era talmente inquinato che poi alla fine partendo dalla base della catena alimentare marina sparivano i pesci più piccoli i pesci più grandi di conseguenza non stazionavano più nel Golfo di Trieste ma questo era dovuto appunto al fatto che sui fondali noi trovavamo e troviamo ancora per capire l'altra parte del problema di inquinamento metri di sedimenti inquinati da metalli pesanti e idrocarburi sono stati lasciati lì sono ancora lì se noi andiamo a vedere nel vallone di Muggia c'è una situazione allucinante e nessuno ha mai parlato di bonificare il vallone di Muggia pur essendo stato inserito nel sito inquinato nazionale bene voi provate a pensare però i pesci che si nutrono delle alghe quindi e della parte della base della catena alimentare marina appunto che scompaiono ma per l'inquinamento non perché le acque sono pulite non perché sono troppo pure ci sarebbe poi da considerare che noi abbiamo avuto per decenni un depuratore fognario quello di servola che ha inquinato allegramente allegramente diciamo con l'euffemismo l'intero Golfo di Trieste perché aveva un sistema di filtrazione delle acque reflue che non funzionava e quindi si scaricavano direttamente i reflue e guarda caso vicino al confine marittimo con la Zovegna direttamente a mare quell'impianto adesso è stato rifatto non è stato costruito un altro benissimo ma è stato fatto solo perché c'è stata un'inchiesta della Commissione Europea attivata da una denuncia che ho presentato io e altrimenti per la politica ma locali i nostri amministratori quel depuratore sarebbe ancora ottimo perfettamente funzionante e contribuirebbe secondo loro a rendere più pure le acque del Golfo di Trieste ecco direi che anche questo significa bisogna valutare attentamente tutte le tutte le situazioni e naturalmente le prove ma ci siamo abituati a vedere in tutti questi anni da troppo tempo che le parole della politica non hanno portato a nessun risultato se non a peggiorare la situazione della nostra cara città quindi Trieste noi dobbiamo chiudere qui io ringrazio Roberto Giurastante presidente ovviamente Trieste Libera per essere stato con noi ci riaggiorniamo magari non fra troppo tempo perché oggi abbiamo parlato sì di inquinamento e di discariche però abbiamo dato poco focus a quelle che sono le cause da voi che vi vedono associati ai PRFTP che vi vedono protagonisti grazie buona giornata a tutti voi una buona giornata grazie buona giornata arrivederci grazie 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 a tutti.